buongiorno a tutti eh quelli in presenza che ringraziamo e anche a quelli collegati prima prima di tutto devo dare una comunicazione eh formale eh l'evento viene registrato quindi se c'è qualcuno che è contrario lo deve dire adesso spero che non ci sia nessuno quindi c'è qualcuno che è contrario? No grazie eh altro altra comunicazione soprattutto per quelli che erano collegati la volta scorsa eh l'evento si è eh interrotto in modo brusco non per nostra volontà ma per un un guasto delle eh della imputabile all'Enel che ha eh privato di energia elettrica gran parte di di questa zona quindi ci scusiamo con chi era collegato eh via web oggi abbiamo dello studio Piselli l'avvocato eh Branci e l'avvocato Giordano che come vedrete eh nel programma avete visto nel programma ci parleranno dei aspetti eh estremamente importanti per quanto riguarda la gestione delle gare e soprattutto eh alcuni aspetti che riguardano la gestione delle stesse eh per fare un riepilogo della così un riallaccio alla puntata eh all'evento precedente io devo dire che eh mi occupo di lavori pubblici da 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 settecentoquarantuno quindi dall' ottantadue e quindi ho palesato anche tutta la mia mia età e la cosa che mi ha un po' sconvolto infatti con la Vinco Branci ne abbiamo parlato prima che mi sono crollati alcuni punti fermi eh che erano divieto il subappalto a cascata c'è più eh la fine e poi vedremo se e come e quando delle associazioni temporali temporanee nelle loro declinazioni orizzontali verticali miste e la cosa che più mi ha lasciato perplesso è la possibilità di partecipare a legare all'appalto con più atti cioè un'azienda può partecipare alla stessa gara d'appalto eh costituendo più atti la cosa che sinceramente mi mi lascia fortemente perplesso per quanto riguarda proprio il concetto della eh corretta concorrenza tra i partecipanti delle gare. Un aspetto che invece mh sottolineo che riteniamo positivo è il concetto di prossimità delle aziende. Eh voi sapete che come associazione di La Spezia siamo fautori da sempre della valorizzazione dell'imprenditoria locale non tanto perché eh il nostro ruolo istituzionale ma soprattutto soprattutto perché siamo fermamente convinti che le stazioni paltanti abbiano più eh possibilità di relazione eh sia in fase di gara ma soprattutto in fase di esecuzione dei lavori avendo come interlocutori aziende del territorio. Prima di tutto che conoscono il territorio che hanno le capacità e le eh possibilità di approfondimento dei materiali ma soprattutto per il fatto che le aziende locali hanno l'obiettivo di continuare a lavorare con gli enti con quelle con i quali hanno si sono giudicate le gare d'appalto conseguentemente eh il livello di contenzioso anche in esecuzione dei lavori eh scende in modo eh modo molto significativo. Quindi uno dei fattori positivi che rileviamo proprio nel nuovo codice eh eh l'inserimento del principio di eh prossimità che troviamo nella nei criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose ma eh che questo concetto in termini estensivi eh a nostro parere si può ampliare in modo particolare soprattutto alle gare di importi limitati perché parlare di prossimità faccio un esempio per appalto di quindici milioni di euro anche per noi ha poco senso se invece parliamo del concetto di prossimità per gare da un milione ottocento cinquecento trecentomila euro per noi credo che sia un valore eh oltre che un valore eh dal punto di vista economico per l'intero territorio perché poi non dobbiamo dimenticarci che l'economia ha ha la funzione di creare quel contesto sociale, culturale, positivo per il nostro territorio ma soprattutto in sede di esecuzione dei lavori riteniamo che si vada a comprimere in modo significativo il contento, l'eventuale contenzioso o tra aziende e interpartanti. Io l'ho fatta fin troppo lunga e a questo punto vi ringrazio di essere qua, ringrazio anche chi è collegato eh metodologia eh della della mattinata. Inizi tu? Inizi tu e abbiamo condiviso con l'avvocato Branci che a ogni argomento poi eventualmente eh facciamo la fase del buono. Grazie. Buongiorno a tutti ehm con con il collega Giordano non ci siamo divisi mh gli argomenti ehm io mi occuperò prevalentemente eh sempre parlando di eh fase di gara delle mh diciamo degli aspetti relativi alla ehm alla procedura quindi allo svolgimento eh della gara ehm della gara stessa eh mentre invece il collega si occuperà ehm della mh parte relativa al contenzioso quindi al post eh al post gara e poi tratterà due argomenti eh specifici quindi due istituti quali il eh il subappalto e l'avvalimento. Ora ehm questo è il secondo incontro che viene dopo il primo a cui immagino abbiate partecipato ehm tutti quanti ehm avete visto nella appunto nel precedente incontro che questo codice eh ha un come dire contiene molte novità molti molto significative e molto eh innovative sul sistema eh dei contratti e dei contratti pubblici il direttore Faconti faceva riferimento appunto ad alcuni al venir meno di alcune certezze che abbiamo avuto negli ultimi eh negli ultimi decenni e ci sono molte ehm novità ehm che vanno ehm verso una maggiore discrezionalità in capo alle alle stazioni appaltanti e una maggiore fiducia eh anche nel ehm non a caso c'è un principio appunto il principio di reciproca fiducia tra eh imprese e stazioni appaltanti che viene declinato eh mi sembra l'articolo cinque del eh del eh del codice questo è un codice che che come sapete ha ehm si fonda su dei principi generali che sono contenuti nella fase iniziale del codice eh del codice stesso e e sono questi principi eh come dire la base anche per interpretare tutte le varie norme che via via eh appunto ci troviamo ad affrontare tra cui appunto quelle che vedremo questa mattina eh relative alla gara quindi diciamo ove possibile io farò dei riferimenti a questi principi declinati nei primi dodici articoli del codice altrimenti appunto eh come vedrete ehm diciamo le norme che appunto che tratterò eh saranno comunque diretta eh come le conseguenze di quei ehm di quei principi ehm anche qui ci sono novità molto molto impattanti per quanto riguarda lo svolgimento della gara non voglio anticiparvi nulla e quindi le andremo le andremo a vedere tra poco ehm io tratterò principalmente scusate un secondo vado subito ecco sugli argomenti questi quattro cinque argomenti quindi al termine di ciascuno ehm appunto se ci sono domande o appunto c'è qualche eh chiarimento o come dire eh richiesta di confronto appunto lo possiamo fare direttamente dopo aver trattato il singolo il singolo argomento. Ehm ora volevo prima di iniziare mh darvi un'avvertenza generale eh che che secondo me è è è importante soprattutto in questa prima fase e soprattutto sarà importante nei prossimi mesi quando eh inizieremo ad applicare questo codice come sapete entrerà in vigore buona parte dal dal primo luglio ehm e poi diciamo c'è una seconda parte che attiene soprattutto alla digital digitalizzazione quindi lato ehm stazione appaltante che entrerà in vigore il primo gennaio del duemilaventiquattro ehm dicevo le novità sono molte quindi in questa ehm in questa prima fase ehm diciamo la 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 mia indicazione che vi do è di essere molto attenti e prudenti nella interpretazione delle norme ehm e quindi di evitare diciamo di di arrivare diciamo a conclusioni affrettate questo lo dico innanzitutto a me stesso perché eh come dire la la reazione che si ha ehm nell'immediato leggendo alcune norme appunto sembra ehm appunto di 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 trovarci di fronte a novità molto importanti con impatti molto importanti però è vero anche che ehm potrebbero come dire eh essere ehm diciamo non ci potremmo trovare in presenza di interpretazioni che poi la giurisprudenza o la prassi potrebbero facilmente smentire anche perché il codice non è eh diciamo utilizza una tecnica per cui non entra poi troppo nel dettaglio di alcuni aspetti ma lascia molta libertà come dicevo prima eh sia al alla stazione appaltante che all'operatore che all'operatore economico. Il direttore Faconti faceva il riferimento al alla possibilità che è prevista che un una medesima impresa partecipi a più di un eh raggruppamento salvo eh appunto l'ipotesi del dell'unico centro decisionale no le offerte ovviamente non devono essere eh come dire eh concertate tra più concorrenti. Quella è è un classico caso di una libertà che viene lasciata dal dal codice ma poi dovremmo vedere a livello di di prassi e di giurisprudenza che tipo di interpretazione verrà data stesso vale per il discorso delle delleati così faceva riferimento viene meno la distinzione tra raggruppamenti verticali raggruppamenti orizzontali figlia della dell'insegnamento della Corte di Giustizia per cui la mandataria non è più tenuta ad eseguire in misura maggioritaria le le prestazioni anche qui andremo a vedere se sarà realmente così ovvero se nella prassi poi si si come dire eh assesterà un orientamento per cui magari nei bandi continueremo a vedere questo tipo di eh di eh di distinzione. Questi erano solo degli esempi appunto per dirvi appunto quello che dicevo prima cioè di essere molto eh molto un'ultima osservazione eh di questo probabilmente ne avete già parlato nel precedente incontro questo ragionamento vale a maggior ragione se si considera che questo è un testo il codice e gli allegati che è ancora eh transitorio perché come sapete gli allegati che oggi sono fonte normativa primaria cioè sono parte del decreto legislativo via via saranno abrogati e sostituiti dai regolamenti quindi atti normativi eh secondari e quindi ehm essendo eh fonte normativa secondaria sarà più ehm come dire più semplice la loro la loro modifica quindi è possibile che in sede di abrogazione degli allegati ci siano delle modifiche e comunque nel corso poi della vita di di questo codice l'atto attuativo cioè quelli che oggi sono gli allegati domani saranno i regolamenti appunto saranno modificabili con una maggiore elasticità proprio perché non si dovrà passare per il Parlamento perché è una fonte normativa secondaria quindi ecco queste erano solo delle avvertenze generali appunto che appunto sentivo il bisogno di eh di darvi e entrando nel merito degli argomenti appunto ehm io andrò a trattare ehm i temi che vedete quindi il soccorso istruttorio i criteri di aggiudicazione il procedimento di verifica ehm di anomalia delle offerte e poi la eh l'aggiudicazione l'accesso agli atti facendo poi decenni al alle fasi della procedura di gara. Iniziamo con il ehm con il soccorso istruttorio allora la norma in materia di soccorso istruttorio è l'articolo cento uno che secondo me ehm ehm diciamo è molto utile e molto ben congegnata perché anzitutto elimina un riferimento che era previsto nella precedente normativa l'articolo ottantatre comma ehm comma nove ehm laddove faceva questa distinzione tra irregolarità essenziali non sanabili e irregolarità non essenziali sanabili che creava solamente solamente confusione la norma non parla più di questa distinzione bensì va direttamente al eh come dire alle eh azioni che può porre in essere la stazione appaltante in serie di soccorso istruttorio dal punto di vista dei termini previsto un eh un termine compreso tra cinque e dieci giorni per fare cosa la prima cosa che può fare la stazione appaltante è consentire di integrare gli elementi a taluni elementi mancanti acclusi alla domanda di partecipazione o alla al documento di gara esclusi ovviamente come come sappiamo i documenti eh afferenti l'offerta tecnica e l'offerta ehm e l'offerta economica quindi si parla in un primo caso di integrazione manca un determinato documento eh posso eh consentire all'operatore economico di produrlo in un secondo in un secondo momento c'è un chiarimento contenuto al comma uno che eh attiene a ad alcuni eh elementi a corredo del eh dell'offerta quali la garanzia provvisoria il contratto di avvalimento e l'impegno a conferire mandato in caso di RT eh costituendo le mancanze di questi documenti sono sanabili dice la norma eh solo eh se eh l'operatore economico si è dimenticato di produrre documenti già esistenti alla data di scadenza del per presentare l'offerta questo è un principio che già ehm trovavamo nella giurisprudenza oggi viene positivizzato in una eh in una norma quindi se il documento uno di questi tre documenti esisteva ma per dimenticanza non è stato accluso all'offerta l'operatore economico eh può eh integrare e quindi produrre questo documento in un secondo momento a patto che il documento però ha una data certa anteriore appunto al termine di presentazione delle offerte. Qui vi segnalo appunto che ehm c'è tutta una giurisprudenza c'è anche un un parere piuttosto recente dell'ANAC appunto su eh sul concetto di eh di data eh anteriore al termine per la presentazione delle offerte e mh ad esempio ehm in questo parere di eh di ANAC eh si fa riferimento ehm al fatto che eh la sola firma digitale acclusa dalle parti di un contratto di avvialimento non è sufficiente per integrare la data certa anteriore perché è necessario apporre oltre alla firma digitale anche la marca temporale. Ok? Quindi poi se vi può essere utile vi do riferimenti di questo parere mi sembra che della fine del duemila del duemilaventidue. In realtà non è proprio così nel senso che lo perché eh lo dico perché il parere dell'ANAC nasce da un precontenzioso che avevamo seguito noi e noi eravamo sostenevamo proprio questa tesi. Purtroppo l'ANAC eh diciamo facendo poi degli approfondimenti è emerso che in realtà la firma digitale la data che che si può ricavare dalla firma digitale dipende dal eh dal computer dal dal dispositivo dal quale si apre quel determinato file. Quindi può variare a seconda del del dispositivo. Quindi l'unico ehm elemento che dà effettivamente data certa in modo oggettivo è questa marca temporale. Poi nel parere il il presidente dell'ANAC richiama tutta la normativa sul sul ehm appunto in materia di ehm di digitalizzazione e di documenti eh prodotti in formato digitale per cui la conclusione anche giuridicamente è quella. Però ecco ci hanno spiegato tecnicamente che ehm la firma diciamo la data che emerge dalla firma digitale in realtà varia da dispositivo a dispositivo sostanzialmente e quindi si può si può creare esposto. Cioè io basta che oggi cambio la data del mio del computer da cui sto proiettando queste slide e potrei generare una firma digitale che ha una data antecedente ad oggi. Questo è quello che ci è stato detto. Sì. Sì. Giusto per il collegarci ai documenti sanabili che non leggo lì passo e e versamento ANAC. A questo punto la il mancato inserimento o mancato per il passo e eh no per il versamento mi scordo di pagarlo e perfeziono il pagamento successivamente. Allora diciamo la seconda ipotesi poi è quello della della sanatoria cioè dicevo che appunto il il codice indica quelle che sono le azioni che si possono porre in essere. Magari questo lo vediamo tra un attimo. Eh io la la interpreto così eh qui si parla di dimenticanza quindi elementi e assenti del del tutto. L'unico caso che viene preso in esame dalla norma è questo di di questi tre documenti quindi non ricordo il pagamento ANAC e il passo è. Il pagamento ANAC sì. Per me va è lo stesso principio nel senso credo eh diciamo vado a senso ehm quello è un elemento che può essere eh integrato successivamente se c'è un un pagamento fatto in dato antecedente lo stesso vale per il passo è è una mia interpretazione magari eh però ecco il fatto che non venga detto nella norma potrebbe ecco qui utilizziamo appunto il condizionale perché per quello per l'avvertenza che vi davo inizialmente magari la poi la giurisprudenza si si assesta su orientamenti differenti ehm non lo so la mia sensazione è che questo non è un elenco tassativo di queste tre ipotesi quindi può essere steso anche ad altri ad altri documenti però ripeto è un è un'ipotesi ma vi chiedo solamente se per per andare un po' con ordine tanto il soccorso istruttorio è tema abbastanza rapido magari vediamo tutte le norme e poi facciamo gli diciamo diamo spazio agli interventi successivamente ehm allora dicevo la seconda azione che viene disciplinata dall'articolo cento uno riguarda il sanare ogni omissione eh inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione del DGOE o di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla gara anche qui con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica con la precisazione che già era prevista nel codice cinquanta per cui non sono sanabili le omissioni inesattezze o irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del ehm del concorrente. Qui la norma fa riferimento evidentemente a la presenza di documenti che sono stati prodotti ehm nel eh nell'offerta quindi o meglio nella domanda di partecipazione di DGOE o di ogni altro documento richiesto che però eh documenti che però contengono appunto delle eh omissioni quindi ad esempio non so delle dichiarazioni non sono state eh riportate o sono state riportate in modo esatto o ci sono comunque delle irregolarità nella modalità con la quale è stato prodotto quel dato eh documento quindi anche in questo caso è ammesso il eh il soccorso eh istruttorio quindi la possibilità di sanare questa eh omissione una novità ehm importante a livello di norma hm perché già la giurisprudenza ehm in realtà ehm esprimeva questo principio è contenuta nel comma tre laddove è previsto che la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e si eh e su ogni loro mh allegato anche qui l'operatore economico è ehm ha diritto di eh fornire una risposta di chiarimento entro il termine dato dalla stazione appaltante compreso tra cinque e dieci giorni con eh la precisazione che i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono mai modificare il contenuto dell'offerta tecnica ed economica quindi qui stiamo di fronte ad una ehm come dire ehm situazione nella quale la stazione appaltante ha già provveduto ad aprire le offerte tecnico ed economiche ritiene che ehm alcuni aspetti non siano chiari nell'offerta per vari eh vari motivi senza che ciò implichi modifica dell'offerta può chiedere dei ehm appunto dei eh dei chiarimenti. L'esempio che viene fatto spesso in questi casi è quello della della fotografia, della fotografia sfocata. Io rispetto a agli elementi visti al comma uno posso apporre delle integrazioni quindi alla a fotografia o andare a modificare una eh irregolarità o una inesattezza presente se però l'elemento riguarda la documentazione amministrativa. Per quanto attiene l'offerta tecnica ed economica non posso andare a a modificare o ad intervenire direttamente su quella fotografia posso solamente metterla meglio a fuoco. Ok? Quindi devo stare all'interno della rappresentazione che è stata data in questo caso in serie di offerta e e nell'ambito di quella eh di quella cornice andare a magari a specificare quindi entrare in un maggior dettaglio o come dire rendere eh in modo più chiaro il contenuto di un ehm appunto di un di una frase o comunque di un riferimento che potrebbe non essere eh intellegibile senza però come dicevo andare ad introdurre delle eh delle modifiche. Oltre a queste ehm a diciamo a queste norme che mh diciamo non apportano grandi novità se non dal punto di vista della formulazione della norma stessa in realtà questi concetti erano già presenti nella giurisprudenza c'è un ulteriore comma eh che introduce invece una novità eh assoluta eh laddove consente all'operatore economico dopo che è scaduto il termine per presentare l'offerta di correggere di rettificare un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica ed economica prima che però l'offerta tecnica ed economica sia eh sia aperta cioè se l'impresa sostanzialmente eh si accorge successivamente ad aver spedito l'offerta quando il termine per presentarle una nuova che sostituisca la precedente è già eh scaduta eh si accorga che appunto quell'offerta contiene degli errori materiali pensiamo banalmente ad un ribasso che eh è stato eh come dire materialmente eh indicato in modo eh in modo errato per un errore nel tratto di penna si dice oppure eh lo stesso discorso vale per ehm delle indicazioni contenute nell'offerta tecnica sempre che si tratti di errore materiale è ammessa la possibilità di rettificarlo tra poco vedremo con quale eh modalità allora una prima considerazione riguarda il fatto che la norma parla solo di errore materiale quindi l'errore materiale è un concetto ben definito dalla giurisprudenza sia errore materiale ehm quando sostanzialmente c'è un disallineamento tra eh come dire il il pensiero e poi l'azione che traduce quel pensiero appunto in eh scrittura ehm l'errore appunto del tratto di eh del tratto di penna quindi deve essere soprattutto dice la giurisprudenza un una situazione che può essere colta con eh con immediatezza poniamo il caso in cui mi fanno mh compilare per presentare l'offerta alcuni moduli contenenti eh l'offerta economica quindi io devo ripetere ad esempio il ribasso magari in piattaforma e poi in un in un documento tra i due documenti eh ci sono dei numeri eh appunto non eh non collimanti ebbene se se uno dei due è eh come dire eh un un come dire contiene un errore materiale cioè un palese ed evidente ehm come dire eh errore di compilazione magari c'è una virgola apposta in modo non corretto oppure c'è un ehm come dire un un numero eh magari un numero decimale che è di che è indifferente ma per un errore appunto eh per un errore materiale magari ho dimenticato un uno oppure ho aggiunto uno zero cioè parliamo di questa di questa casistica allora se me ne avvedo prima del dell'apertura dell'offerta posso eh appunto rettificarlo questa è una norma che evidentemente serve per anticipare appunto possibili contestazioni contenziosi e ehm e quant'altro lo stesso vale per elementi contenuti nell'offerta tecnica pensiamo ad alcuni parametri numerici eh se ho palesemente errato nel dare un non so un'indicazione su una eh una grandezza eh una grandezza numerica quindi non so si parla di eh centinaia di metri io invece ho indicato eh avendo erroneamente aggiunto uno zero magari migliaia di metri quella è una delle ipotesi che può essere evidentemente ehm evidentemente modificate quindi la mia eh impressione è che per al per come è formulata la norma questa possibilità appunto è piuttosto limitata ai solo casi di di errore materiale dopodiché vedremo la giurisprudenza se vorrà darne un'interpretazione estensiva o o eh appunto o o meno però c'è un riferimento appunto all'errore materiale come vi dicevo è un qualcosa di molto ben ehm definito dalla ehm dalla giurisprudenza il comma quattro è appunto la norma che disciplina tutto questo eh questo meccanismo per cui ne ho già parlato la cosa che va aggiunta è che ehm appunto eh la deve trattarsi di una rettifica e quindi non deve comportare la presentazione di una nuova offerta o comunque una sua modifica sostanziale e mh si dice poi che la rettifica deve essere presentata con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione e in ogni caso deve essere assicurato eh l'anonimato sostanzialmente qui si dice che non devo inviare una PEC sì anonimato in effetti eh secondo me è un po' infelice come ehm cioè qui forse volevano dire la segretezza secondo me eh a meno che non vogliono dire che l'anonimato nel senso che gli altri concorrenti non devono sapere che c'è stato questa rettifica forse è così altrimenti eh che questa può essere un'interpretazione altrimenti voleva dire che deve eh come dire deve assicurarne la segretezza quindi deve consentire la possibilità che quella rettifica sia aperta o meglio sia mantenuta segreta fin tanto che non viene aperta l'offerta quindi l'invio di una PEC per fare un esempio non garantisce ehm appunto la segretezza perché può essere aperta appunto in qualsiasi momento da da chiunque appunto la lega e con questo mi sembra sì di aver concluso sul soccorso istruttorio quindi ecco prego prego io ho terminato quindi la gara ci svolge online preso dalla disperazione chiamo il RUP per telefono scrivo e che guardi ho commesso un errore materiale ho messo che dice dice l'esempio inserire cose da anche in che ho pensato la prima la prima cosa che mi è venuta in mente è questa oppure ho sbagliato a scrivere ribasso magari ho più gara da chiudere e ho scritto un ribasso piuttosto che un altro faccio una richiesta attraverso lo stesso sistema con cui ho partecipato alla gara online quindi quello dovrà essere poi comuni che ti mettono a disposizione questa cosa di rettifica di errore materiale scrivo scusate ho sbagliato rettifico l'offerta ma a quel punto ripresento un'altra offerta no eh ma innanzitutto eh eh io condivido tutto quello che ha detto eh innanzitutto deve essere data la possibilità tecnica di consentire questa rettifica cioè la piattaforma evidentemente dovrà eh no lo sa perché esatto dovrà contenere o un meccanismo o comunque dovranno sbloccare questa questa possibilità anche perché lì c'è una questione di tempi eh nel senso eh io potrei avere pensate all'ipotesi dell'inversione procedimentale eh sì potrei avere un'apertura delle delle offerte magari a distanza di di pochissimi giorni rispetto alla scadenza del termine no perché poi mi ricollego al al punto precedente dove si dà la possibilità alla stazione appaltante di fa richiedere chiarimenti relativamente al contenuto anche dell'offerta economica non può ricollegarsi a questo aspetto inversione procedimentale apro l'offerta o cavolo si sono non hanno indicato gli oneri per la sicurezza esclusi no perché ora c'è quest'istituto della rettifica di errore materiale attenzione alla rettifica è una facoltà che viene data al concorrente fin tanto che non viene aperta l'offerta quindi nel momento in cui si aprono le offerte non c'è più quella quindi entriamo in un altro in un'altra fase e in un'altra dinamica non si applica più la norma a quel punto si si porrà però però il tema posso fare il eh il soccorso istruttorio su su questa eh omissione ok la norma in realtà che lei citava parla di chiarimento quindi deve essere un elemento che è stato comunque inserito in offerta che però non risulta chiaro quindi l'ipotesi dell'omissione assoluta secondo me non rileva sotto il profilo del chiarimento potrebbe rilevare sotto questo eh sotto questo profilo però ripeto questo comma quattro parla di errore materiale quindi l'errore materiale presuppone un qualcosa che c'è quindi potrebbe non essere tutto è comune potrebbe non essere parte da una mia comunicazione io in qualche modo devo comunicare prima dell'apertura dell'offerta guardate ho sbagliato a me è capitato mh qualche tempo fa un cliente in una gara mista servizi forniture mi sembra aveva dimenticato di indicare i costi eh i costi della mano d'opera se ne ha veduto eh se ne ha veduto prima lì sorge il dilemma che faccio lo eh anticipo l'apertura dell'offerta oppure no oppure aspetto vediamo se si accorgono questo è un po' il il tema la questione è che bisogna vedere se appunto l'ipotesi dell'omissione può essere considerata quale errore materiale per come oggi è la giurisprudenza direi di no anche perché poi sul tema come certamente saprete dei costi della mano d'opera degli aziendali c'è tutta una una giurisprudenza per cui tu puoi eh essere eh sei autorizzato a di come dire a a indicare questi costi successivamente solo se la piattaforma sostanzialmente non ti consentiva di indicarli eh in sede di gara quindi se la stazione appaltante per qualche dimenticanza nel modulo non aveva previsto la possibilità di indicare i costi i costi della mano d'opera allora tu eri autorizzato a a indicarli successivamente e adesso una possibilità di questo tipo sui sistemi informatici c'è però devi prima sempre della scadenza del termine se ti accorgi dell'errore revocare la tua partecipazione richiedere nuovamente la partecipazione reinserire tutti i documenti amministrativi tecnici però a gara ancora aperta questo a gara ancora in corso a un minuto dalla scadenza della gara puoi rifare tutto no a giù a no aggiungo questa possibilità adesso col collega insomma intanto facciamo anche noi delle gare per servizi legali può capitare lo sapete eh voi meglio meglio di noi che appunto nella fretta appunto di dover chiudere la gara eh ecco diciamo questa norma sembra consentire eh come dire anche la possibilità un secondo dopo la chiusura della gara di andarla a eh appunto a rettificare se nella fretta magari eh c'è qualche errore materiale quindi l'ipotesi del ribasso eh come dire divergente oppure la virgola eh diciamo eh oppure il appunto la cifra inserita in modo erroneo ma ripeto deve essere un qualcosa che emerge chiaramente questo sembrerebbe effettivamente essere ehm essere possibile oppure nella fretta avevo prima in mente un ribasso eh poi lo voglio cambiare ecco forse se riesco a dimostrare che è un errore materiale perché magari in più parti ho inserito eh ribassi diversi questo lo posso fare ecco è una è una possibilità che ripeto secondo me fa emergere l'intento del legislatore che è quello di anticipare un problema. Ok? Questo mi sembra un po' il il senso. Perché posso dire ho fatto un errore materiale voglio sostituire ma prima va la stazione appaltante va a verificare che tipo di errore è stato fatto. No diciamo che non è automatico non è che qualsiasi errore o omissione. No no ripeto l'errore materiale è un concetto molto ben definito dalla giurisprudenza è l'errore che vi è che può essere colto eh immediatamente. Ok? Quindi non è eh ad esempio leggevo recentemente una sentenza eh in cui qualifica sembra qualificarlo come errore materiale il valore numerico eh palesemente come dire incongruo o sproporzionato. Pensate all'ipotesi in cui indico dei costi per la mano d'opera superiore al ribasso oppure dei costi per la mano d'opera c'è una sentenza del dello scorso anno del consiglio di stato che era pari ad un decimo addirittura un ventesimo della stima che aveva fatto la stazione appaltante. Quindi lì c'era una presunzione che non si trattava di novantamila euro ma erano magari novecentomila euro quindi l'operatore si era dimenticato uno zero. Però ecco parliamo di situazioni evidenti. Ok? Allora io mh su questo punto mh non so poi le piattaforme come lavoreranno se lasceranno aperta la possibilità ai concorrenti fino alla data prevista per l'apertura dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di inserire eh nuove offerte oppure se verrà fatto sola richiesta. Però eh mi sembra che la stazione appaltante debba comunque in fase di apertura delle offerte si troverà la prima offerta quella modificata e poi valutare se si tratta di un errore eh materiale. Sì è proprio così. Eh. Io dovrò indicare nel secondo invio cioè dovrò dire capire con quali modalità le piattaforme consentiranno quest'azione che eh il secondo invio sostituisce il eh il precedente con poi una situazione che andrà verificata perché se la stazione appaltante non ritiene che si sia trattato di errore materiale il fatto che l'operatore lo abbia corretto cosa significa? Che non vale la seconda ma la prima vale eh oppure non lo so ecco diciamo si aprono comunque delle 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 questioni poi lì appunto io il consiglio che mi sento di dare alle imprese ecco di almeno in questa prima fase di attenersi a quello che dice la norma appunto l'errore materiale è una cosa molto eh come dire eh molto definita ed è una situazione che si può cogliere immediatamente cioè non della serie non ci sono spiegazioni diverse se non quella ok quindi se non si ricade in questo caso io eviterei sinceramente magari me la vado come dire a discutere in un secondo momento essendo prevista la possibilità di chiarimento abbiamo visto forse invece tornando a quel concetto di cui parlava prima della marca eh temporale eh chiedevo come si ricava la marca temporale è implicita nella firma digitale o deve essere previsto nel disciplinare di gara di apporre in tutti i documenti anche la marca temporale? Allora diciamo questo che in realtà quella è una situazione che serve solo per consentire di integrare il documento eh che non è stato mh allegato per dimenticanza quindi non non significa che tutti i documenti debbano avere la marcatura temporale perché credo che la piattaforma già comunque dà certezza del appunto del dell'invio ok? Però se io mi sono dimenticato di caricare il documento in piattaforma e quindi non ho più la copertura della certezza della data l'unico modo che ho per produrre successivamente un documento che avevo dimenticato di allegare è questo di aver avuto come dire l'accortezza che non sempre sia anzi quasi mai sia di apporre anche la marca temporale che è un qualcosa di diverso rispetto alla firma digitale cioè oltre a firmare digitalmente credo che i servizi di firma digitale consentono di acquistare una marca temporale che è un bollino che ti dà appunto la la data certa va bene grazie quindi ecco anche qui il consiglio che si può dare alle imprese ecco il consiglio che si può dare è di attivare delle modalità per cui si appongono appunto le marche temporali ad alcuni ad alcuni documenti buongiorno scusi sempre con riferimento a questa eventuale soccorso in caso di mancanza di documento che non è possibile nel caso per l'offerta economica e l'offerta tecnica il caso della del bid bond della garanzia provvisoria è integrabile se salvo diciamo prima la presenza di una firma digitale una marca temporale antecedente alla scadenza sì qui ricadiamo nell'ipotesi appunto che dicevo precedentemente del comma uno che è proprio disciplinata per cui cioè non è considerata parte dell'offerta economica quello sicuramente no è a corredo della documentazione amministrativa quindi eventualmente se uno avesse la siccome arriva sempre l'ultimo secondo avesse la cortezza di farsi mettere anche una marca no ma io ecco il consiglio che mi sento di darvi almeno su queste tre ipotesi per le imprese visto che oggi c'è la norma su questi tre documenti appunto si potrebbe appunto prevedere appunto un meccanismo automatico interno all'azienda appunto di apposizione della della marca della della marca temporale banalmente mi dimentico non faccio in tempo mi manca un minuto per per inviare l'offerta se ho se ho precedentemente come apposto la marca temporale so che posso anche nell'economia del tempo diciamo di quel momento posso anche evitare di di allegarlo lo stesso vale per il contratto di avvalimento o l'impegno a costituire l'RT cioè non vi dico che potrebbe essere una modalità come dire ordinaria per cui questi documenti me li preparo prima con marca temporale posso anche non allegarli però c'è la norma effettivamente chiede la filiussione con marca temporale a filiussore ma però la marca temporale credo che la possiate apporre anche voi successivamente credo ma arriva all'ultimo secondo a volte non si riesce non so come funziona quindi si è associata alla firma si grazie prego ci sono altre domande io andrei avanti sugli altri argomenti grazie allora articolo 108 o i criteri di aggiudicazione allora la norma riprende a grandi linee il contenuto dell'articolo 95 del codice 50 introducendo però alcune novità viene confermata la regola generale secondo la quale le stazioni appaltanti possono scegliere sostanzialmente tra due criteri di selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del basato solo sull'elemento prezzo quindi il massimo ribasso viene anche qui ripreso il concetto del costo del ciclo di vita che appunto rappresenta un appunto un elemento di valutazione appunto dei appunto del costo inteso come considerazione di tutti i costi che possono intervenire eh durante l'esecuzione del dell'appalto e durante la vita dell'opera del prodotto in generale del del servizio da questo punto di vista è stato eliminato il riferimento ehm che precedentemente c'era in un articolo ad hoc che era l'articolo 96 del codice 50 perché c'è un rinvio all'allegato 2.8 appunto ci dice quali sono appunto gli elementi e i costi da considerare che possono essere considerati durante l'intero ciclo di vita del eh appunto del prodotto quindi costi di manutenzione costi di funzionamento costi di smaltimento di fine vita oltre alle esternalità eh negative quindi l'impatto che ha un determinato eh intervento sul ehm sull'ambiente da questo punto di vista appunto a parte questo rimando non ci sono grandi novità probabilmente l'allegato contiene delle dei dettagli in più rispetto all'articolo eh all'articolo novantasei appunto su come eh le stazioni appaltanti debbano eh valutare appunto i costi del ciclo di vita eh la ehm il secondo comma riprende a grandi linee eh il eh il comma eh tre dell'articolo novantacinque laddove del decreto cinquanta laddove vengono indicate alcune tipologie di eh appalti che sono quelli che state vedendo eh che eh devono essere aggiudicati obbligatoriamente sul eh con il criterio dell'offerta economicamente più eh vantaggiosa. Si tratta sostanzialmente delle eh stesse ipotesi già previste dall'articolo novantacinque anche se con alcune eh lievi modifiche. Viene confermato il ehm l'obbligo di offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi sociali di ristorazione e in generale i servizi ad alta intensità di mano d'opera ossia quei servizi la coincidenza della mano d'opera supera il cinquanta per cento dell'importo da affidare. Così come viene confermato l'obbligo per i servizi di architettura ingegneria e in generale per tutti i servizi di natura intellettuale eh di importo superiore al eh alla soglia che consente l'affidamento diretto. Qui è modificata la norma perché la precedente faceva riferimento ancora alla soglia vecchia di quarantamila euro come sapete adesso la la soglia è stata innalzata a centotrentanone mila euro. Eh stesso discorso riguarda i servizi e le forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico innovativo. Qui c'è una novità perché oltre ad avere appunto anche qui adeguato la soglia ai cento quarantamila euro c'è un riferimento lo vedete in basso anche ai lavori. Quando invece il novantacinque eh precedentemente si eh riferiva solo ai eh servizi e appunto e fornituri e forniture caratterizzati da contenuto tecnologico innovativo quindi lo stesso vale per i lavori. Si dice poi che anche il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione queste sono due tipologie di procedure alternative alle procedure aperte e ristrette eh che devono essere eh obbligatoriamente affidati con secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in precedenza il riferimento era contenuto nell'articolo appunto che disciplinava questi istituti oggi il legislatore lo ha inserito nella regola generale eh dopodiché viene eh inserito e questa è una novità anche l'ipotesi dell'appalto o dell'appalto integrato quindi sapete che è stato reintrodotto senza le limitazioni che che erano previste nel decreto cinquanta il la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e lavori in questo caso eh ovviamente essendo una prestazione contrattuale anche il servizio eh di natura tecnica è obbligatorio utilizzare il criterio dell'offerta eh economicamente più vantaggiosa ovviamente queste eh indicazioni valgono per il eh per il sovrasoglia proprio per il sottosoglia invece viene eh prevista la libera scelta tra i due eh criteri a meno che non eh non si tratti di ehm servizi e ad alta intensità di mano d'opera oltre a quello che è previsto l'articolo centootto ci sono nel nel codice altri riferimenti esterni quindi rispetto al cento otto a ehm contratti che debbono essere eh affidati obbligatoriamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ossia procedura di finanza di progetto locazione finanziaria cioè leasing eh leasing finanziario leasing costruendo eh e l'affidamento a contraente eh a contraente generale quindi riferimento non è al centotto ma nelle varie norme che poi disciplinano queste eh queste ipotesi al comma tre viene eh prevista come già veniva fatto al comma quattro dell'articolo novantacinque del decreto cinquanta la facoltà di utilizzare nel sovrasoglia il criterio del minor prezzo per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato anche qui è specificato che in ogni caso il servizio e fornitura standard eh se è al contempo un servizio ad alta intensità di mano d'opera non può essere affidato col criterio del massimo ribasso quindi c'è la prevalenza del eh del del elemento dell'alta intensità di mano d'opera anche laddove il servizio eh abbia caratteristiche standard e quindi in astratto potrebbe essere affidato secondo il massimo ribasso dopodiché abbiamo il comma quattro che ehm prevede alcune eh appunto alcune eh novità anzitutto viene detto eh che i criteri di aggiudicazione questo era già previsto l'articolo novantacinque devono essere pertinenti alla natura all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. Viene poi ribadito che eh in caso di eh offerta economicamente più vantaggiosa i criteri devono essere oggettivi quindi devono essere come dire eh determinati o determinabili dagli operatori economici e aggiungo io anche dai commissari di gara che poi dovranno applicarli nella valutazione delle offerte e eh potranno basarsi su aspetti in generale qualitativi ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto. Qui è venuto meno il comma se dell'articolo novantacinque che elencava seppur in modo non tassativo quelli che potevano essere eh come i possibili criteri da inserire nell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi c'è un generico riferimento a questi aspetti qualitativi ambientali o sociali ma non si dice nulla eh nulla eh nulla di più. Ehm ad esempio c'era tutto il dibattito che nasceva da eh appunto dal comma sei se ehm il requisito soggettivo cioè se l'elemento attinente all'operatore economico e non al progetto poteva essere oggetto di valutazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa questo riferimento è stato appunto è stato eh eliminato quindi c'è tendenzialmente una il superamento di questa eh distinzione si dice solamente che devono essere criteri oggettivi quindi banalmente le certificazioni di qualità su cui c'è stata tanta giurisprudenza possono o non possono essere oggetto di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa evidentemente possono anche perché lì la limitazione eh ad esempio sulle certificazioni di qualità o in generale sugli aspetti soggettivi dell'offerente venivano date dall'ANAC nelle linee guida numero due linee guida che verranno abrogate dal primo dal primo luglio quindi è venuta meno quella eh come dire quella indicazione quindi oggi sembra esserci effettivamente una libertà per la stazione appaltante di eh appunto di scegliere criteri di valutazione tanto oggettivi quanto soggettivi fermo restando e poi andremo a vedere cosa ci dirà la giurisprudenza c'è un riferimento già previsto nell'articolo novantacinque fatto che la stazione appaltante eh in sede di definizione dei criteri deve valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta eh e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo su profili tecnici quindi qui c'è una preferenza per gli aspetti eh tecnico qualitativi ma non c'è un eh un divieto di inserire elementi eh elementi soggettivi vi anticipo che la novità principale eh sull'offerta economicamente più vantaggiosa è il fatto che è venuto meno il il tetto del trenta per cento massimo da assegnare alla componente e alla componente economica che come sapete appunto tanto dibattito aveva creato soprattutto un contrasto eh tra la GCM che propendeva per l'eliminazione di questo tetto e l'ANAC che invece era ehm convinta della necessità di ehm appunto di mantenerlo quindi non c'è più questo divieto ehm questo obbligo generalizzato per cui le stazioni appaltanti salvo due dereo che adesso andremo a vedere potranno assegnare all'elemento economico anche più di trenta punti eh trenta punti eh massimi come era previsto nel nel codice eh nel codice cinquanta dicevo due eh eccezioni a questa libertà di eh appunto di assegnare anche più del trenta per cento dei punti all'offerta economica si hanno per gli acquisti informatici laddove si affermano due concetti sostanzialmente si dice che laddove l'oggetto dell'appalto eh riguarda l'approvvigionamento di beni e servizi informatici le stazioni appaltanti e le centrali di committenza laddove vanno a definire i criteri di valutazione dell'offerta tecnica devono sempre tener conto degli elementi di cyber sicurezza attribuendovi specifico e peculiare riferimento nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e in questo caso la stazione appaltante deve stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il dieci per cento quindi qui abbiamo addirittura un innalzamento del ehm del ehm o meglio una restrizione del ehm del punteggio economico ulteriore rispetto a quella eh che avevamo al tetto del trenta per cento che avevamo in precedenza solo per gli acquisti informatici però laddove sono connessi alla tutela di interessi nazionali strategici e poi abbiamo eh il riferimento ai contratti di alta intensità di mano d'opera per i quali rimane il tetto del trenta per cento da assegnare all'offerta eh all'offerta economica quindi al di fuori di questa ipotesi quindi pensiamo alle forniture eh o ai eh appunto ai lavori in cui c'è appunto come dicevo prima una liberalizzazione appunto nella suddivisione dei vari ehm dei vari eh criteri tecnici ed economici una eh novità ehm è importante è prevista al comma sette eh che disciplina dei criteri premiali specifici due situazioni che possono dar luogo a a premialità ricorderete che eh il mi sembra comma tredici dell'articolo novantacinque faceva riferimento anche qui a dei criteri premiali ad esempio alle eh imprese in possesso del rating di eh di legalità oppure eh altri ehm altri elementi tra cui il la la possibilità di offrire mi sembra prodotti a chilometro zero insomma c'erano varie ipotesi viene riscritta questa norma e si fa riferimento oggi come dicevo solo a due situazioni la prima è quella di cui parlava il direttore eh Faconti laddove eh è previsto che ehm come criterio premiale possa essere stabilito quindi un punteggio o eh come dire altre eh modalità per favorire la partecipazione alla gara di eh piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta con la precisazione che può essere eh previsto un criterio premiale in riferimento al eh principio di eh prossimità eh quindi attraverso una valorizzazione dell'elemento territoriale rappresentato dalla sede operativa la norma parla proprio di sede operativa quindi non sede legale ma sede eh operativa quindi può essere anche una sede secondaria perché appunto eh sia uno stabilimento o comunque sia una sede non fittizia ecco non può essere eh un indirizzo di un di un commercialista evidentemente eh sita nell'ambito territoriale di di riferimento evidentemente il luogo di esecuzione del eh dell'appalto quindi qui c'è il tema eh evidentemente eh di cui parlava il direttore Faconti la la norma è prevista per le gare ad offerte economicamente più vantaggiosa quindi tendenzialmente per quelle gare che hanno un importo più elevato però se vale eh appunto per queste tipologie di gare a maggior ragione dovrebbe valere per le eh appunto per gli importi eh minori eventualmente affidati anche col criterio eh del solo eh del solo prezzo questo anche sulla scorta eh di un principio generale che eh appunto prevede proprio come eh indicazione per le stazioni appaltanti l'articolo dieci ultimo comma appunto di eh quindi principio generale di tutto il codice eh principio generale di eh appunto favorire eh l'accesso eh alle eh procedure di gara delle piccole e medie eh delle piccole e medie imprese. L'altra eh situazione che dà luogo ha appunto a criteri premiali riguarda la certificazione sulla parità di genere quindi l'azienda in possesso di questa eh di questa eh certificazione qui c'è un rinvio proprio alla normativa in materia di eh parità di eh di genere può appunto conseguire un eh appunto un punteggio premiale o comunque un vantaggio nella nella valutazione della propria offerta eh tecnica. Ci sono poi alcuni eh alcuni principi sempre parlando di eh gara di offerta economicamente più vantaggiosa che vengono riproposti nel eh decreto legislativo trentasei seppur con alcune modifiche eh anzitutto eh viene ribadito l'obbligo di inserire nell'offerta economica appena di esclusione qui viene precisato i costi della mano d'opera e gli oneri aziendali per l'adempimento o delle eh norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori con l'eccezione anche qui confermata per gli appalti di sola fornitura senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale quindi da questo punto di vista nulla cambia se non appunto questo riferimento alla esclusione per l'operatore economico che non abbia indicato questi costi all'interno dell'offerta ehm dell'offerta economica. si ribadisce eh il divieto nelle gare di lavori eh e qui viene specificato ricorderete che la norma non era eh così eh in modo così evidente riferita ai lavori ma lasciava dei dubbi tant'è vero che ci sono state delle sentenze appunto che hanno chiarito appunto che l'ambito di operatività è solo i lavori eh del divieto appunto dicevo di assegnare eh punteggio per l'offerta eh tecnica a ad aspetti quantitativi quali quantità aggiuntive di eh opere di lavori rispetto a quelle previste nel progetto a base di gara questa era una norma introdotta già dal decreto correttivo del duemiladiciassette ed aveva l'obiettivo di evitare ehm appunto dei massimi ribassi e mascherati cioè di andare a premiare eh come dire elementi eh quantitativi opere aggiuntive a scapito della della qualità quindi è mantenuto questo eh questo divieto viene eh ribadito il concetto secondo il quale le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea con la precitazione che questa facoltà deve essere ehm stata indicata nella nella legge di gara e la novità che è quella evidenziata eh secondo cui eh questa facoltà deve essere esercitata entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte e qui non c'è un riferimento alla eh appunto all'aggiudicazione bensì siamo nella fase precedente di conclusione delle valutazioni delle offerte quindi nel momento in cui viene eh credo debba essere interpretata in questo modo viene predisposta la graduatoria eh di di gara da quel momento in teoria quindi probabilmente anche prima dell'eventuale verifica di anomalia eh scatta questo termine di trenta giorni entro cui la stazione appaltante può eh appunto decidere di non aggiricare l'appalto perché non conveniente o idonea viene poi ribadita la regola della eh dell'invarianza della della soglia di eh di anomalia e delle medie eh come ricorderete questa norma è stata introdotta nel duemilaquattordici ehm è stata riproposta nel nuovo codice con alcune eh modifiche innanzitutto è stato eliminato il riferimento alla fase di ammissione regolarizzazione o esclusione che creava eh molta confusione è stato aggiunto il riferimento all'eventuale inversione procedimentale ed è stato aggiunto il eh eh riferimento al ehm al fatto che la regola dell'invarianza non produce conseguenze eh sui eh procedimenti relativi ad altri lotti della medesima eh della medesima gara ehm quindi sostanzialmente si ha una eh novità che consiste da un lato nella possibilità della stazione per la stazione appaltante finché non interviene il provvedimento di aggiudicazione evidentemente di andare ad incidere sul calcolo delle medie e sulla soglia di anomalia per cui se c'è un ravvedimento della stazione appaltante finché non c'è la giudicazione appunto è possibile eh è possibile intervenire quindi se c'è un operatore economico che segnala un eh appunto una situazione che potrebbe dar luogo a esclusione di un concorrente dalla cui esclusione può derivare una diversa media o soglia di anomalia della fin tanto che non c'è la eh l'aggiudicazione quindi la conclusione della procedura la stazione appaltante può evidentemente intervenire in presenza di una eh aggiudicazione anche un eventuale contenzioso non potrà mai eh andare a modificare la eh appunto la media o la soglia di eh o la soglia di anomalia quindi questo come sapete bene è una regola ripeto che c'è dal duemilaquattordici è stata solo modificata in alcuni eh passaggi che vi ho detto questo serve a evitare come dire contenziosi che possano eh come dire andare a eh sovvertire l'esito di una eh l'esito di una eh di una gara andando a intervenire chirurgicamente sulla partecipazione di alcuni eh di alcuni concorrenti solo al fine di andare a modificare la la soglia o le eh o le medie e poi ecco c'è questo riferimento come vi dicevo al fatto che la stessa cristallizzazione eh riguarda appunto anche gli altri eh appunto gli altri eh gli altri lotti eventualmente previsti ehm allora eh ok con questo io avrei concluso sull'anomali su sulla scusate sui criteri di aggiudicazione offerte economicamente più vantaggiosa non so se ci sono domande spoglierò gli occhiali con le lenti sì sì volevo fare una domanda proprio relativamente ai criteri di aggiudicazione in particolare se dalla lettura del nuovo codice è in qualche modo preclusa la possibilità per le stazioni appaltanti di fissare dei criteri di aggiudicazione on off cioè quindi una valutazione binare oppure rimane ammessa come generale l'espressione della discrezionalità amministrativa grazie allora non ci sono indicazioni eh specifiche proprio su queste su questa tipologia di criterio c'è un riferimento eh che è questo contenuto nel comma quattro che però non è una novità perché era già previsto nel codice cinquanta eh laddove si dice che la stazione appaltante deve valorizzare gli elementi qualitativi e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sopra i fili tecnici su questa norma c'è stata una eh giurisprudenza diciamo inizialmente un po' ehm come dire eh incerto o meglio che ha generato alcuni eh contrasti tra alcuni tar secondo cui appunto un abuso diciamo dei criteri da bellari appunto non non era eh non permesso il Consiglio di Stato ha un po' invece eh diciamo sconfessato queste eh questo orientamento dicendo che in realtà è eh assolutamente possibile e rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante eh individuare eh criteri e tabellari on off eh con eh e quindi diciamo quelle gare che erano poi state oggetto di eh di eh di contenzioso in cui quasi tutti i punti dell'offerta tecnica venivano assegnati con criteri tabellari sono state ritenute eh legittime con un mh una specificazione da parte del Consiglio di Stato che riguardava l'abuso però di criteri di tipo soggettivo quindi diciamo il Consiglio di Stato eh era andato più su quell'aspetto quindi sembra dire il Consiglio di Stato sulla scorta anche di precedenti orientamenti e anche delle indicazioni dell'ANAC che quello che non eh può essere fatto non è tanto fare una gara quasi esclusivamente con criteri tabellari in cui viene predeterminato come del livello qualitativo atteso e assegnato un correlato eh punteggio quanto abusare del dei criteri cosiddetti soggettivi quindi che non guardano tanto al pregio tecnico dell'offerta quanto al soggetto che la va a presentare da questo punto di vista credo che verrà confermato questo orientamento. se non ci sono altre domande prego la loro apertura si intende l'apertura dell'offerta tecnica ed economica o l'apertura della gara in generale? Questo perché cioè la modifica apro la la busta amministrativa e poi dopo qualche giorno quella economica posso andare a fare una modifica prima dell'apertura dell'offerta economica oppure nei momenti in cui apro la gara eh riguardo al soccorso istruttorio di cui abbiamo parlato in precedenza no? No la norma lezione non del soccorso istruttorio. Sì diciamo l'articolo cento uno che disciplina il soccorso istruttorio e in particolare questo eh la possibilità di rettificare eh le offerte tecniche ed economiche. La norma parla di ehm termine cioè possibile la rettifica secondo il meccanismo di cui eh abbiamo parlato eh fin tanto che eh non sono state aperte le offerte tecniche ed economiche. Quindi eh fino al giorno le leggo la norma fino al giorno fissato per la loro apertura l'operatore economico con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica ed economica. Quindi io la leggo fino al giorno di apertura delle offerte tecniche ed economiche. Potrei. Però sì. Sembrerebbe sembrerebbe ammettere sembrerebbe ammettere questa questa correzione però non dimentichiamoci che si tratta di rettifica di errori materiali quindi è la norma specifica che non può essere esatto diciamo il presupposto è molto eh molto stringente. Ripeto quella norma va letta nell'ottica di prevenzione di un contenzioso. Ok? Eh eh esatto esatto non può essere modificata l'offerta esatto. Quindi l'idea di ritoccare un'offerta eh non è contemplato se non si rientra proprio nell'ipotesi di errore di errore materiale a meno che diciamo qui però dovrebbe ci dovremmo trovare di fronte a una mente diabolica che appunto predetermina appunto un errore materiale che all'occorrenza poi in base in funzione del numero di concorrenti però ecco ripeto eh sì ma mi ripeto le lezione me la 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 l'intento del legislatore è quello di evitare che ci siano come dire o meglio è l'obiettivo è quello di anticipare eventuali problematiche cioè piuttosto che trovarmi in una situazione in cui vado a eh come dire eh ma ma questo si basa anche sul principio della reciproca fiducia di cui di cui si parlava no? Eh eh quindi non va letto diciamo come dire in modo eh come dire con un intento di andare a alterare poi la la gara bensì diciamo nell'ottica di una collaborazione eh cosa può capitare che la stazione appaltante non si accorga di quell'errore materiale magari se ne accorge in serie di accesso agli atti eh un concorrente da lì può nascere un contenzioso ok? Viceversa io questa norma è un invito alla collaborazione da parte degli operatori economici che potrebbero essersi eh abbeduti dell'esistenza di questi errori e quindi ti invito ti do la possibilità e ti invito a palesare questi eventuali errori diciamo in una fase appunto antecedente alla valutazione dell'offerta quindi per evitare che la valutazione poi possa essere condizionata da un errore e quindi generare valutazioni errate e quindi generare contenzioso. L'ottica è secondo me è questa quindi sì per questo diciamo la facoltà è ammessa fin tanto che non si ha la valutazione della dell'offerta e quindi ben può essere esercitata nella fase di scrutinio dei documenti amministrativi. Ok ora se non ci sono altre domande andiamo sull'anomalia. Allora anche qui sull'anomalia ci sono alcune novità. Anzitutto viene detto che le stazioni appaltanti valutano la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità quindi viene un po' stressato il concetto di verifica di anomalia quindi valutano questi aspetti delle offerte, della migliore offerta che in base a elementi specifici inclusi i costi di mano d'opera e oneri aziendali, questa anche è una novità, appaia anormalmente basso. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. Cioè qui la novità sta nel fatto che sostanzialmente è il bando che può indicare quali sono gli elementi che la stazione appaltante andrà a considerare ai fini della congruità dell'offerta. Quindi viene in qualche misura anticipato come dire l'aspetto su cui poi eventualmente potrà andare a indagare la stazione appaltante per verificare l'anomalia dell'offerta. Questo potrà essere fatto evidentemente in funzione del tipo di appalto, quindi delle caratteristiche specifiche dell'appalto. Novità molto rilevante sta nel fatto che è stato eliminato il riferimento alla regola dei quattro quinti nelle gare ad offerte economicamente più vantaggiosa, così come sono stati eliminati i riferimenti al numero minimo di offerte necessarie affinché si procedesse a verifica di anomalia. La norma sembra appunto consentire la verifica di anomalia quindi in modo sostanzialmente libero da parte delle stazioni appaltanti, quindi senza che tale valutazione sia ancorata a dei parametri numerici, cosa peraltro già prevista e questo vale secondo me sia nel senso di ritenere sospetta anomala un'offerta sia nel senso di non ritenerla. Paradossalmente potrei avere un'offerta che consegue cento punti, vi faccio un caso estremo, la stazione appaltante potrebbe non ritenerla, come dire, sospetta di anomalia, quando invece in base all'attuale decreto 50 scattava un vero e proprio obbligo al superamento dei quattro quinti di appunto di avviare la verifica. Stesso discorso riguarda appunto il numero delle offerte pervenute, anche in presenza di una o due offerte, cosa che oggi non era prevista, la stazione appaltante è autorizzata appunto ad effettuare la verifica. Quindi c'è una liberalizzazione del procedimento e quindi anche qui nell'ottica della maggiore discrezionalità che viene concessa alle stazioni appaltanti e della reciproca fiducia appunto nell'operato degli operatori economici si anticipa nel bando gli elementi e si dà poi una libertà nella valutazione di questi aspetti. Evidentemente questo può avere dei riflessi anche sui tempi di appunto di aggiudicazione. Evidentemente uno degli obiettivi del legislatore è anche questo. Viene poi eliminato il riferimento alla possibilità di valutare anche le offerte successive alla migliore che come sapete era prevista nel decreto 50. Dal punto di vista del procedimento non ci sono particolari novità perché viene ripresa la regola secondo cui la verifica di anomalia può esaurirsi in un unico come dire momento di contraddittorio per cui la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 15 giorni e esclude solo in presenza di appunto di alcuni elementi. Quindi viene confermato il venir meno di quella procedura per fasi che era invece prevista nel decreto 163. Viene poi ribadita l'ambito rispetto al quale possono essere date le motivazioni che sono sostanzialmente identiche a quelle già previste nell'articolo 97 quindi eventuali economie nel processo di esecuzione dell'appalto, soluzioni tecniche peculiari e condizioni eccezionalmente favorevoli e l'originalità delle prestazioni offerte. Si ribadisce anche qui la impossibilità di poter giustificare i trattamenti salariali minimi che rappresentano un limite invalicabile al di sotto del quale non è possibile andare. Stesso discorso riguarda gli oneri di sicurezza. Il comma 5 anche qui riproduce la norma dell'articolo 97 confermando che l'offerta può essere esclusa solamente se non viene giustificato in modo adeguato il livello dei prezzi e i costi proposti tenendo conto appunto degli elementi visti in precedenza in quanto non vengono rispettati gli obblighi in materia ambientale sociale del lavoro non vengono rispettati gli obblighi in tema di subappalto sono inconguri gli oneri aziendali e il costo del personale è inferiori ai minimi salariali detributivi qui purtroppo che è sempre riferimento alle tabelle ministeriali a mio avviso non è pertinente perché come tutti voi sapete le tabelle ministeriali in realtà rappresentano solamente dei dati statistici al di sotto dei quali si può andare cioè quello che non può essere derogato è effettivamente il livello salariale minimo ma non è contenuto nelle tabelle ministeriali il livello salariale minimo che rappresentano solo dati statistici appunto per settori per settori merceologici e quindi da questo punto di vista si conferma a livello normativo la possibilità di derogare queste tabelle. Da ultimo viene confermata la regola appunto che un'offerta può essere anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di stato in questo caso la stazione appaltante può escludere l'operatore solamente se quest'ultimo non è in grado di dimostrare che l'aiuto era compatibile con le regole di funzionamento dell'unione europea in particolare articolo 107 del del trattato. Parlando di verifica di anomalia merita un cenno anche se probabilmente ne avete già parlato nel corso del precedente incontro la disciplina del sottosoglia come sapete il codice dedica ben sette articoli al appunto al sottosoglia e quindi rappresenta appunto nell'intenzione del legislatore un sotto un sottosistema con regole peculiari tra cui appunto queste relative all'esclusione automatica delle offerte anomale riprendendo l'articolo 97,8 quindi oggi questa fattispecie quindi dell'esclusione automatica non sta più nella norma sull'anomalia che un tempo era l'articolo 97 ma sta nel diverso articolo che tratta del sottosoglio articolo 54. Qui viene ribadito ribadita la regola obbligatoria che era divenuta poi obbligatoria con il decreto sblocca cantieri e poi estesa dal semplificazioni anche in presenza di un numero di offerte minimo di 5 la regola appunto obbligatoria dell'esclusione automatica nelle gare a prezzo più basso sottosoglia delle offerte che risultano anomale appunto in presenza di 5 offerte ammesse. Viene precisato che la regola non si applica ovviamente agli affidamenti diretti e viene ribadita la regola secondo cui in ogni caso anche all'esito del di questo meccanismo di esclusione automatica la stazione appaltante può nei confronti del primo concorrente non anomalo quindi a giudicatario in pectori valutare la congruità del dell'offerta quindi anche se all'esito di questo meccanismo l'offerta si presume non anomalo. La novità sta nel fatto che il metodo deve essere indicato per individuare la soglia di anomalia deve essere indicato nel bando quando invece oggi il meccanismo era rimandato direttamente alla legge c'erano due combi dell'articolo 97 il 2 mi sembra il 2 bis che prevedevano in funzione del numero dei concorrenti che presentavano offerte se inferiore o superiore a 15 il relativo metodo di calcolo il taglio delle ali e via discorrendo poi con l'applicazione di un coefficiente specifico oggi non c'è più questo rimando perché i metodi sono contenuti in un allegato sono tre e il metodo non è quindi rimesso al numero dei concorrenti ma è determinato dalla stazione appaltante quindi la stazione appaltante deve scegliere uno tra i tre metodi il primo metodo riproduce quello previsto ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 97 gli altri due metodi sono appunto una novità può essere prevista anche la possibilità se non viene predeterminato di selezionarlo tramite sorteggio ovviamente per non rendere predeterminabile appunto il meccanismo di di calcolo dell'anomalia io non entrerò nel merito di questi metodi soprattutto il terzo metodo contiene non so se qualcuno di voi ha avuto modo già di vederlo contiene delle tabelle c'è la possibilità di prevedere già nel bando una soglia di anomalia c'è uno sconto di ribasso quindi uno sconto sul prezzo che può rappresentare un indice di anomalia in realtà altro non è che un parametro sulla cui base poi viene come dire effettuato il calcolo di anomalia però su questo ecco vi rimando all'allegato 2.2 che appunto soprattutto su questo terzo metodo è diciamo è molto interessante molto impattante però ecco andiamo su su un dettaglio che oggi non riusciamo ad affrontare l'ultimo argomento ecco non so se su questo tema dell'anomalia ci sono interventi altrimenti andrei sulle fasi della procedura la giudicazione e l'accesso non abbiamo molto tempo l'argomento è molto molto interessante perché contiene molte novità e allora facciamo io direi magari proviamo ad affrontare questi temi quasi se ci saranno domande magari possiamo ok allora anzitutto prego allora diciamo che sicuramente le tabelle rappresentano un parametro e non contengono giustamente dei livelli salariali minimi bensì la media del costo del personale per categoria merciologica e area e area geografica il livello salariale minimo discende dal contratto collettivo che viene applicato a quello specifico a quello specifico appalto quindi la fonte da cui ricavare il livello salariale minimo è il contratto è il contratto collettivo quindi una forte normativa primaria e da questo punto di vista vi segnalo non so se il tema è stato affrontato scusa posso intervenire perché faccio finta di capire di cosa sto parlando come associazione tutte le volte che c'è una variazione del costo della mano d'opera noi pubblichiamo il costo della mano d'opera è un calcolo che viene fatto in modo scientifico sulla base del del contratto nazionale di lavoro e i contratti discendenti quindi contratto provinciale perché la contrattazione è su due livelli quello nazionale e quello provinciale tanto è vero che abbiamo rinnovato il contratto provinciale proprio un mese fa quindi sulla realtà di la spezia il costo della mano d'opera è certificato dalla nostra associazione appunto correttamente il direttore faceva riferimento ai contratti collettivi quindi è quella la fonte da cui da cui ricavare da questo punto di vista è molto interessante una norma che è contenuta nei principi generali all'articolo 11 perché per evitare come dire quello che spesso appunto vi è diciamo la tecnica che spesso viene utilizzata dai vari operatori economici di applicare contratti collettivi non del tutto pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto e quindi avere dei trattamenti salariali magari inferiori rispetto a quelli che sarebbero propri del contratto pertinente con l'oggetto dell'appalto dà la possibilità alle stazioni appaltanti di indicare nel bando qual è il contratto collettivo a cui fare riferimento per quello specifico appalto per cui l'operatore economico che assume di applicare un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante all'onere di provare che il contratto collettivo che intende applicare quindi poi giustificare in serie di eventuale verifica di anomalia a condizioni non inferiori a quelle minime previste dal contratto indicato dalla stazione appaltante diciamo questo è proprio a tutela del lavoratore e aggiungo io di quelle imprese come dire virtuose che si come dire attengono effettivamente al al contratto di eh di riferimento e a non a contratti che magari appunto sono più convenienti per loro ma poi alla fine determinano un appunto condizione di svantaggio per i lavoratori questo è contenuto non so se l'ho detto all'articolo all'articolo 11 e commi 2 e commi e commi 3 e proseguendo sul tema del delle fasi delle procedure di affidamento viene positivizzato e stabilizzato rispetto alla decretazione d'urgenza successiva al decreto semplificazioni la previsione di termini di conclusione delle procedure di gara oggi abbiamo una norma che appunto è l'articolo 17 che rimanda ad un eh allegato che prevede per ogni eh tipologia di ehm ecco qui l'allegato 1.3 per ogni tipologia di procedura quindi procedura aperte ristrette ehm competitive con negoziazione dialogo competitivo eccetera e distinte per criterio massimo ribasso e offerta economicamente più vantaggiosa un termine di conclusione della eh di conclusione della gara l'obiettivo è evidentemente quello di spendere le risorse eh pubbliche a disposizione dare esecuzione alle opere soprattutto eh dare esecuzione alle opere previste dal PNRR eh è stato introdotto eh un eh proprio a rafforzare la previsione di termini di conclusione entro cui devono essere concluse le procedure eh di gara è stato introdotto eh il principio per cui se la stazione appaltante supera ehm questo termine eh il superamento del termine costituisce silenzio o in inadempimento sostanzialmente c'è una violazione dell'articolo 2 della legge 241 eh per cui eh il eh un soggetto che ne ha interesse tra cui un operatore economico può eh evidentemente ehm invocare ehm il eh silenzio inadempimento dinanzi ad un tar o prima di andare al tar attraverso un un atto di impulso che può essere una una diffida con la precisazione che ehm appunto il superamento dei termini eh rileva anche ai fini della verifica del rispetto del dovere di buona fede anche in pendenza di un eh appunto di un eh contenzioso. Qui c'è tutto un tema che riguarda i contenziosi poi ne parlerà eh l'avvocato eh l'avvocato Giordano è stata introdotta l'azione di rivalsa della stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che non si sia comportato secondo buona fede. Altra novità è eh contenuta in questo comma eh dell'articolo diciassette che modifica la scansione o meglio la collocazione del momento delle verifiche sul possesso dei requisiti. L'attuale codice l'articolo trentadue eh prevede eh che le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario siano svolte successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione. di regola. Poi nella prassi sappiamo bene che non tutte le stazioni appaltanti fanno questa verifica. Ad esempio l'ANAS anticipa sempre le verifiche e quindi esce con la aggiudicazione già efficace. Però il codice dava un'indicazione diversa. Ora viene invertita eh viene invertito l'ordine per cui le verifiche sull'aggiudicatario eh di regola dovrebbero essere eh appunto effettuate eh prima di eh conclu prima che sia conclusa la procedura di gara e quindi sia comunicata la aggiudicazione. Quindi di regola la stazione appaltante ha provata la proposta di aggiudicazione, ha provata l'aggiudicazione prima di comunicarlo all'esterno e quindi diciamo di far decorrere tutti i termini tra cui anche quello per eh per stipulare il contratto e eh proporre ricorso al TAR deve effettuare le verifiche sulla aggiudicatario quindi la verifica dei casellari, agenzia delle entrate eh DURC eh e quant'altro. Quindi possiamo dire che oggi l'aggiudicazione è direttamente efficace e quindi autorizza eh la stazione appaltante a stipulare immediatamente il contratto salvo il termine di stand eh di stand still quindi l'attesa dei 35 giorni che anche viene modificata dal codice. Ci fermiamo qua? Perché vedo che c'è un attimo di calo di tensione normale. Prendiamo un caffè? Sì, direi che per presentare i prossimi argomenti. Sì, dieci minuti, un quarto d'ora massimo. Ci prendiamo un caffè. Grazie. 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 Ok, no, dovrei averlo attivato anche su zoom, mi sembra. Ci sentite? Vabbè, dai. Ok, dovremmo esserci. Alla dicevamo appunto le le fasi di procedura, ecco, ehm c'è stata questa inversione del mh della trafase di aggiudicazione e verifica dei requisiti che vengono anticipati. Questo lo vedremo tra poco eh rientra eh diciamo in una riforma complessiva sempre nel senso di accelerare ehm le ehm le procedure che qui potrebbero sembrare non non essere accelerate in realtà ma di accelerare la esecuzione e l'avvio degli interventi quindi di diminuire e prevenire l'eventuale contenzioso. Quindi va letto in questa ottica. Sicuramente rappresenta un onere come dire in più a carico della stazione appaltante prima dell'aggiudicazione ma ripeto l'obiettivo è quello di anticipare delle eventuali eh questioni. Nella logica del legislatore non ha senso disporre un'aggiudicazione nei confronti di un soggetto che poi all'esito delle verifiche si rivela in eh sprovvisto dei eh dei requisiti quindi meglio appunto fare eh le le verifiche prima essere certi che quel soggetto può effettivamente contrarre con la stazione appaltante quindi da qui la la ehm appunto la logica di questa norma che poi vedremo balletta in combinato con la riforma del sistema di accesso di accesso agli atti che vedremo tra poco. Altra novità riguarda l'esecuzione anticipata quindi l'esecuzione delle prestazioni prima della stipula del contratto. Nell'attuale assetto eh disciplinato dall'articolo trentadue l'esecuzione anticipata è prevista unicamente per ragioni di urgenza quindi interesse pubblico, urgenza legato a patrimonio mi sembra ehm eh diciamo culturale e artistico a motivi di salute eh sicurezza in generale quindi queste sono delle ipotesi tipizzate che oggi eh le uniche che consentono di anticipare eh l'esecuzione del contratto. Qui il nuovo codice invece eh aumenta le possibilità di eh un'esecuzione anticipata del contratto quindi prima della stipula eh ogni qual volta oltre alle ipotesi che rimane delle ragioni di urgenza per cui in presenza di ragioni di urgenza è sempre anticipata l'esecuzione del contratto quindi non si dà una facoltà di anticiparlo per motivi di urgenza ma è automatica l'esecuzione anticipata oltre a queste ipotesi dell'urgenza è consentita l'esecuzione anticipata per qualsivoglia ragione purché sia motivata dalla stazione appaltante quindi una qualsiasi eh esigenza anche diversa rispetto a quella eh d'urgenza autorizza l'avvio eh anticipato delle eh delle prestazioni. Rimane come dicevo l'ipotesi eh pressoché identica rispetto a quella attuale della eh delle ragioni di urgenza eh prevista al comma nove la novità sta nel fatto che non è più eh non sono più ipotesi tassative ma come dicevo c'è la possibilità purché motivata di eh consentire l'esecuzione anticipato anche per altri eh motivi. Eh si eh ribadisce che la pendenza di un eh contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura salvo i poteri cautelari del giudice amministrativi e quelli di autotutela della stazione appaltante. Questo è un riferimento nuovo quello all'autotutela. Questo significa che il semplice fatto che un soggetto abbia presentato ricorso non può mai eh giustificare la sospensione della procedura qui stiamo parlando di eh procedura quindi prima eh della ehm della giudicazione quindi pensate a un soggetto escluso dalla gara che proponga ricorso le ehm la sospensione derivante da un contenzioso è possibile solo laddove il giudice abbia esercitato dei poteri cautelari cioè abbia eh adottato un' ordinanza generalmente il TAR agisce con delle ordinanze che sospendono eh appunto la la procedura o eventualmente l'aggiudicazione se è proposto eh ricorso avverso eh la giudicazione in assenza quindi di provvedimenti di questo tipo non è ammesso eh fermarsi per la stazione appaltante noi sappiamo che nella prassi molto spesso il ricorso eh determina appunto un eh un congelamento della procedura fino addirittura alla sentenza quindi il legislatore vuole intervenire su queste ipotesi per cui fatta salva eh la fase cautelare per cui come tutti sappiamo c'è l'inibitoria a stipulare il contratto se è stato proposto ricorso con domanda eh cautelare se poi quella domanda cautelare non viene accolta dal giudice quindi si va o viene respinta o si va direttamente alla fase di merito e comunque è sempre avvicinata parliamo di 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 alcuni mesi uno due tre mesi non di più ecco diciamo in quell' ipotesi se non lo dice il giudice accogliendo la domanda cautelare c'è ehm appunto l'obbligo per la stazione appaltante di procedere nella procedura e quindi anche nella stipula del eh nella stipula del eh del contratto quindi eh dicevo l'obiettivo del legislatore è quello di limitare appunto questa prassi che eh produce l'effetto poi di eh ritardare l'esecuzione del eh appunto delle eh delle prestazioni viene eh ribadita la regola ehm qui andiamo all'articolo diciotto che riguarda il contratto eh secondo cui la stipula ehm a luogo nei successivi sessanta giorni eh ad eccezione di ricorso giurisdizionale appunto come dicevo poc'anzi assistito da domanda cautelare per cui in quel caso c'è un divieto eh confermato di stipulare il contratto eh ovvero se è previsto un diverso termine nella legge di gara quindi diverso rispetto a sessanta giorni oppure nell'ipotesi in cui si è stato concordato con il soggetto aggiudicatario un eh diverso eh un diverso termine concordamento che comunque deve essere motivato anche da parte della stazione appaltante in relazione appunto ad un interesse pubblico confermata ovviamente la regola per cui non può essere stipulato il contratto prima dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione quindi qui viene eh fatto riferimento all'invio delle comunicazioni e le eccezioni che conosciamo con un'eccezione nuova quindi autorizza la stipula dei contratti per quanto riguarda i contratti di importo inferiori alle soglie questo basti pensare ai lavori fino a cinque milioni di euro cinque milioni insomma e rotti quelli che quella che è la soglia comunitaria la stazione appaltante può stipulare il contratto anche il giorno successivo ad aver comunicato all'ultimo degli offerenti la giudicazione questa è la novità perché finora c'era l'ipotesi del sottosoglia ma solo ehm rispetto ad importi più più bassi quelli dell'affidamento diretto quindi fino a centocinquantamila euro scusa per noi è una realtà una novità importante perché gran parte del degli appalti che vengono banditi in provincia ad eccezione di alcuni sono tutti sotto i cinque milioni di euro la maggior parte quindi si riduce in termini trenta giorni anche l'inizio dei lavori beh questo soprattutto va letto insieme all'altra norma che dicevamo prima per cui eh la stazione appaltante deve fare le verifiche prima della della giudicazione quindi veramente si può verificare l'ipotesi di una stipula immediata eh del eh appunto del contratto per quelle tipologie di di appalto fermo restando che anche laddove eh la stazione appaltante dovesse avere un atteggiamento più cauto per cui comunque ritiene di attendere i eh comunque i trentacinque giorni c'è sempre la possibilità di un'esecuzione eh di un'esecuzione anticipata che oggi è stata sostanzialmente liberalizzata la ehm il comma successivo precisa che l'effetto sospensivo cioè il divieto di ehm di stipulare il contratto in pendenza di ricorso cessa quando il giudice in sede cautelare quindi non in fase di merito quindi nella nella prima fase eh sulla quale è chiamata pronunciarsi o si dichiara incompetente o fissa la data di discussione eh dell'udienza finale di merito senza essersi pronunciato sulle misure cautelari oggi nel gergo di noi avvocati spesso capita che si concorda ma spesso sono i giudici a proporlo eh alle parti di fissare un termine breve di eh di di merito quindi per arrivare a sentenza quindi per arrivare a risolvere il contenzioso in tempi rapidi senza passare per un pronunciamento cautelare bene quella situazione oggi eh viene disciplinata dal legislatore il quale appunto ci dice che eh la stazione appaltante non può sostanzialmente eh evitare di eh stipulare il eh contratto se è stata fissata un'udienza di merito senza che il giudice abbia eh concesso eh una misura cautelare quindi il rinvio direttamente al merito sostanzialmente determina una implicita rinuncia alla domanda cautelare questo un diciamo è un concetto di così un po' tecnico però chi ha avuto esperienze di contenzioso appunto probabilmente sa a cosa mi mi riferisco e anche qui se ehm la stipula del contratto non avviene entro eh il termine fissato quindi sessanta giorni o il diverso termine eh concordato per fatto della stazione appaltante la giudicataria può farne constatare il silenzio di un'attempimento questa riproduce un po' la regola che abbiamo visto in caso di mancato rispetto dei termini quindi vale anche per la stipula del del contratto quindi c'è uno strumento attraverso il quale l'aggiudicatario può sollecitare la stazione appaltante a stipulare il contratto ogni tanto ehm ci viene posto qualche ehm ci viene posta qualche situazione in cui addirittura a distanza di mesi o anni non si arriva a stipulare il contratto ecco qui il eh l'operatore oggi si trova in una situazione di ehm di dover attendere poi le ehm le determinazioni della stazione appaltante invece il nuovo codice offre un rimedio per sbloccare questa eh situazione perché il meccanismo del silenzio di adempimento significa che il soggetto o l'aggiudicatario può ricorrere a un tar il quale tar ordina eh alla stazione appaltante di pronunciarsi in questo caso ordina di stipulare il contratto il meccanismo è questo è un rito eh al che si fa al tar a tempi abbastanza rapidi e consente di sbloccare queste situazioni di eh stallo eh viene confermato il principio inoltre secondo cui l'aggiudicatario che intende recedere dal contratto superato il termine stabilito per la sua ehm stipula quindi recedere meglio dall'aggiudicazione non spetta alcun indennizzo salvo il rimborso delle spese eh contrattuali la mancata stipula del contratto precisa del comma sei entro il termine fissato per fatto della giudicatario può costituire motivo di revoca della giudicazione come sappiamo in questi casi c'è la l'escussione della polizza di eh di gara mentre invece la mancata o tardiva stipula del contratto costituisce violazione del dovere di buona fede anche in pendenza di incontenzione su questo non entro perché è un tema che poi affronterà il collega quando tratterà il ehm il contenzioso in particolare l'azione di rivalza. L'ultimo argomento eh è mh è molto rilevante perché eh è mh il legislatore ha attuato una vera e propria rivoluzione rispetto al sistema parlo dell'accesso agli atti che ehm abbiamo conosciuto finora eh proviamo a vedere rapidamente quali sono le eh le novità. Allora eh innanzitutto eh si afferma un principio per il quale le stazioni appaltanti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure. Eh l'obbligo quindi di eh avere un accesso agli atti digitale non più la la copia cartacea ma questo ormai era superato già da alcuni anni la novità principale sta nel fatto che c'è un accesso automatico non c'è più necessità di eh avere eh un atto di impulso dell'operatore economico il quale deve presentare un'istanza d'accesso dopo che ha ha avuto conoscenza di una data aggiudicazione. Oggi la stazione appaltante dopo aver comunicato l'aggiudicazione anzi contestualmente quindi immediatamente dopo aver comunicato l'aggiudicazione deve mettere a disposizione eh gli atti eh nei confronti dei concorrenti e in particolare alcuni atti nei confronti dei primi cinque concorrenti graduati. Ok? Quindi non c'è più un atto di impulso dell'impresa ma c'è un obbligo a carico della stazione appaltante il quale obbligo viene soddisfatto attraverso un accesso diretto eh dalla piattaforma attraverso la quale è gestita la gara quindi non c'è l'invio della PEC non c'è alcun scambio di note l'unica nota è quella della stazione appaltante la quale comunica che ha giudicato un certo contratto all'impresa X e che da quel momento è possibile attraverso la piattaforma a cui sono abilitati tutti i vari concorrenti scaricare eh i documenti tra cui anche le offerte. Adesso vediamo con quali distinzioni. Quindi in questo modo si vuole evitare tutta quella fase di eh come dire di di scambio di emissive a volte anche con eh di fide voglio l'accesso agli atti riservati o meno che spesso caratterizza eh appunto la fase successiva alla giudicazione che determina una ehm come dire eh una protrazione dei termini poi di stipula del del ehm del contratto. Una novità eh importante contenuta in questo comma sta nel riferimento non solo all'accesso alle procedure di affidamento ma anche all'esecuzione dei contratti quindi sembrerebbe dire il codice che la stazione appaltante debba mettere a disposizione anche gli atti poi bisogna capire quali con quali modalità successivi alla stipula del contratto. Questo è un tema che c'è sempre stato in materia di accesso agli atti spesso ed è capitato varie volte anche in alcune eh sentenze si legge di imprese che fanno istanza di accesso agli atti eh successivi alla giudicazione quindi gli atti del dell'esecuzione del contratto magari un concorrente che si è collocato in eh seconda posizione vuole vedere se poi la giudicatario mette in atto quelle varianti eh quelle proposte migliorative o meglio che aveva proposto un serie di gara che gli avevano consentito di vincere quella gara e ci sono stati dei contenziosi perché eh magari quelle migliorie non erano effettivamente realizzate nei termini indicati in offerta oppure c'è l'altra ipotesi spesso ricorrente del subappaltatore che eh non viene pagato eh e fa accesso agli atti eh della della commessa per vedere se effettivamente che è stato un pagamento quindi questo è un tema e oggi sembra essere stato risolto eh dal legislatore nel senso di ammettere l'accesso agli atti anche quindi ai documenti prodotti nel corso dell'esecuzione del contratto. Scusa ti faccio una domanda eh questo accesso agli atti perché faccio riferimento all'esempio che hai fatto del subappaltatore eh l'accesso agli atti quindi può essere fatto anche da soggetti operatori economici che non hanno partecipato alla gara? Allora diciamo allora deve esserci comunque una relazione qualificata con la gara per cui il subappaltatore dovrà dimostrare che in quanto subappaltatore ha un interesse qualificato ad avere quell'accesso. Qui c'è tutto il tema dell'accesso civico generalizzato perché c'è una normativa parallela che eh da un potere anche al cittadino di eh verificare l'operato delle delle amministrazioni e accedere agli atti. Ora in tema di appalti a mia memoria i giudici hanno sempre cercato di limitare l'applicabilità del delle disposizioni sull'accesso civico generalizzato. Però bisognerà vedere se poi questo orientamento sarà confermato anche alla luce di 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 questo nuovo codice. Tendenzialmente mi verrebbe da dire no, devi comunque dimostrare un rapporto qualificato. Quindi in questo caso il subappaltatore non avrà accesso alla piattaforma perché non è abilitato lui non avendo partecipato alla gara però in questo caso con un'istanza potrà eh appunto mh richiedere l'accesso motivando sul perché appunto chiede quei documenti. Un soggetto del tutto estraneo mi sembrerebbe difficile. Ah perché eh faccio l'esempio dei comitati no? Eh che un comitato civico possa accedere agli atti nella fase di esecuzione del contratto potrebbe essere singolare soprattutto mi mettono nel pane degli amici della pubblica amministrazione e li caricherebbe di un lavoro non probabilmente non non indifferente. No diciamo questo che sicuramente questa ipotesi non è disciplinata dal codice che qui effettivamente si fa riferimento al a soggetti comunque interessati alla realizzazione quindi si parla di operatori economici del del settore dei contratti pubblici. La diversa disciplina di questa ipotesi è contenuta appunto nelle norme sull'accesso civico generalizzato. Lì bisognerà vedere uno se il comitato effettivamente è portatore di interessi diffusi e quindi si è attitolato eh a a chiedere l'accesso agli atti e poi bisognerà vedere in che eh in con quali con quale limiti. Io temo che in quel caso possano avere diritto ad accedere però temo nel senso diciamo temo per il funzionario. Prego. secondo me si chiedevo se il diritto di accesso è da intendersi come diritto oppure come obbligo dell'amministrazione di caricare i dati di esecuzione sul portale. Allora diciamo questo che la norma se io la leggo eh appunto eh potrebbe essere appunto interpretata come un obbligo di caricare tutto su piattaforma per mettere a disposizione di tutti tutto. Adesso semplifico anche quello che attiene all'esecuzione dei contratti perché questo dice la norma. Secondo me nella parte relativa all'esecuzione dei contratti non credo che avrà una attuazione eh come dire così eh frequente. Quindi mentre sulla gara sappiamo che sono i riflettori accesi alla massima votenza e quindi no c'è le come dire anche le la possibilità di fare ricorso quindi sicuramente verrà e non ho dubbi rispettato alla lettera questo obbligo non credo quantomeno nella prima fase di di applicazione ma bisognerà vedere come verrà interpretato che lo stesso potrà dirsi per la per gli atti relativi all'esecuzione però dobbiamo attendere un attimo eh cioè in effetti per come è scritta sembrerebbe che l'obbligo ci sia però ecco questo poi si scontra con la la come dire la 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 parte poi operativa e pratica che rende comunque secondo me anche eccessivamente gravoso comunque richiederà inevitabilmente un qualche atto di impulso da parte di un soggetto quindi non credo che avremo questi accessi automatici sull'esecuzione. allora mh il comma tre eh riprende l'articolo cinquantate del decreto cinquanta quindi non mi eh soffermerò su questo eh prevede appunto varie fasi della procedura entro la quale non possono essere eh dati eh gli atti eh o i documenti di gara per cui le offerte non possono questo lo sapete le offerte non possono essere stese fino eh alla aggiudicazione non posso dare i nominativi dei soggetti che hanno eh manifestato interesse o presentato offerte finché non scade il termine sono tutte quelle regole che eh che eh che conosciamo viene altresì eh ribadite ribadita la regola ehm appunto delle esclusioni dall'accesso eh agli atti eh per cui quella che ci interessa maggiormente è contenuta la lettera A possono essere escluse le dall'accesso quindi sottratte all'accesso le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica evidentemente o giustificazioni sull'offerta economica eh che costituiscono secondo motivata e comprovata dichiarazione di chi le eh renda quei quelle dichiarazioni segreti tecnici o commerciali nulla eh nulla di nuovo da questo punto di vista le novità le vedremo tra poco in realtà riguardano lì la procedura proprio di accesso si modifica un po' il comma cinque rispetto al corrispondente comma cinque dell'articolo cinquantatre del decreto cinquanta laddove si dice che l'accesso relativo a parti eh segrete eh dal punto di vista tecnico commerciale deve essere ehm indispensabile ai fini della difesa in eh giudizio ok oggi la la dicitura della norma appunto non prevede questo concetto di indispensabilità come sapete c'è un grandissimo conflitto tra interesse interesse eh come dire alla trasparenza da un lato e all'esercizio del diritto di difesa l'interesse alla segretezza appunto di aspetti che attengono poi al know how e al diciamo ai processi interni eh dell'azienda per cui spesso molto spesso ci sono dei conflitti ecco qui il legislatore anche sulla scorta della ehm della giurisprudenza appunto ha chiarito che il diritto d'accesso deve essere indispensabile questo per evitare quegli accessi che hanno finalità esplorative voglio solo faccio accesso solo per vedere l'offerta degli altri anche se in realtà tutto questo bel discorso che ho appena fatto è superato da quello che vedremo adesso perché eh ed è questa la norma più impattante ehm sul sul sistema dell'accesso è cambiato del tutto il procedimento noi finora eravamo abituati a un sistema nel quale la stazione appaltante comunica la giudicazione poi chi ha interesse generalmente il secondo graduato o eventualmente anche gli altri concorrenti ehm presentavano un'istanza di accesso e a quel punto la stazione appaltante si riservava di valutare se quell' istanza soprattutto quella relativa all'offerta tecnica o alle giustifiche eh appunto potesse essere evasa oppure no chiedeva al controinteressato cioè a chi aveva presentato l'offerta se c'erano segreti dieci giorni insomma sappiamo che c'era un meccanismo molto ehm molto farraginoso che determinava dei conflitti e soprattutto determinava una protrazione dei termini poi per fare eh per fare ricorso. È stata una sentenza molto importante mi sembra lo scorso anno della dunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui il termine di trenta giorni per fare ricorso decorre non già dalla comunicazione di aggiudicazione bensì per gli aspetti relativi all'offerta da quando l'offerta viene ostesa quindi fin tanto che l'amministrazione non scioglie ehm appunto la questione del delle offerte segretate o meno quindi non ostende mh nella sua interezza o salvo diciamo le parti ritenute segrete il l'offerta quel termine di trenta giorni non decorre quindi questo capite bene che spostava in avanti di molto il termine perché l'operatore economico magari si prendeva dieci giorni solo per presentare l'istanza l'amministrazione si prendeva altri dieci giorni per il contro interessato poi doveva dare i documenti e secondo questa sentenza appunto i trenta giorni scattano solo dal momento in cui viene data l'offerta richiesta dal concorrente ossia quando il concorrente che vuole fare ricorso ha tutti gli elementi per poterlo per poter contestare la giudicazione con questo sovvertendo tutti gli orientamenti che c'erano stati fino al duemilaventidue secondo cui invece il termine di trenta giorni decorreva dalla comunicazione della giudicazione non è più così ormai da un anno ora per evitare questo protrarsi delle tempistiche cosa fa il legislatore novità assoluta comma uno dell'articolo trentasei attenzione attenzione l'offerta dell'aggiudicatario i verbali di gara e gli atti sono resi disponibili attraverso la piattaforma di approvvigionamento come abbiamo detto non c'è l'istanza ma c'è una messa a disposizione diretta automatica da parte della stazione appaltante a tutti i candidati ed offerenti non definitivamente esclusi contestamente alla comunicazione digitale della giudicazione ok la novità la capite bene l'offerta dell'aggiudicatario oltre che tutte le altre informazioni alla base dell'aggiudicazione quindi anche eventuali scambi su verifiche dei requisiti abbiamo visto prima che devono essere fatte prima della giudicazione anomalia dell'offerta soccorsi istruttori chi più ne ha più ne metta devono essere tutti palesati e resi pubblici per i soggetti che hanno presentato l'offerta quindi anche il ventesimo concorrente avrà diritto automaticamente riconosciuto dalla norma a conoscere l'offerta della giudicatario cosa che invece al momento ovviamente era esclusa non finisce qui perché il comma due ci dice che agli operatori collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili attraverso la stessa piattaforma gli atti di cui è comma uno al comma uno che le offerte dagli stessi presentati quindi mentre tutti i concorrenti possono accedere a tutti gli atti di gara prodotti dalla stazione appaltante e all'offerta della giudicatario i primi cinque ehm si vedranno pubblicate le loro offerte e potranno a loro volta accedere automaticamente alle offerte degli altri sempre collocatisi nelle prime cinque eh posizioni quindi c'è sostanzialmente un accesso ultra generalizzato tra le offerte dei primi cinque eh dei primi cinque concorrenti ok questo chiaramente è una cosa che poi graverà sulle stazioni appaltanti e perché questo perché c'è il tema della riservatezza non non l'abbiamo dimenticata nel momento in cui la stazione appaltante comunica la giuricazione deve anche dire nella nella medesima comunicazione eh le decisioni dalla stessa assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte quindi non c'è più una come valutazione successiva alla giudicazione ti do le parti segretate o meno mi devi dire se le dichiarazioni sul i segreti tecnici e commerciali devono essere rese prima della giudicazione quindi nel corso della gara aggiungo io credo che le stazioni appaltanti debbano richiedere queste dichiarazioni in sede di offerta ok lo stesso dovrà essere fatto per le giustifiche cioè nel momento in cui facciamo le giustifiche ti dico anche ti chiedo le giustifiche mi devi dire da subito quali sono le parti delle tue giustifiche ritieni essere eh come dire contenere segreti tecnici e commerciali ok a quel punto la stazione appaltante potrà avere delle parti eh appunto oscurate con richiesta di oscuramento e dovrà decidere quindi prima di aggiudicare se intende effettivamente aderire alla richiesta di oscuramento oppure no lo dovrà dire nel ehm nel provvedimento di aggiudicazione le decisioni su questa valutazione di oscurare le parti dell'offerta eh hanno un rito super accelerato davanti al tar eh per cui eh c'è un termine di dieci giorni entro cui chi non è d'accordo con la eh decisione della stazione appaltante sull'oscuramento eh o meno può appunto presentare ricorso al tar entro dieci giorni non trenta giorni quindi parliamo di un iter molto molto rapido c'è tutta la disciplina del ehm di questo rito ehm laddove la stazione appaltante non accetti l'istanza di oscuramento che abbiamo detto deve essere presentata durante la fase di eh di gara non può ostendere quindi caricare sulla piattaforma quelle parti fin tanto che non è trascorso il termine di dieci giorni che la parte che ha interesse a tenere oscurate eh i diciamo l'offerta ha esercitato il diritto appunto di ricorrere al tar in quel termine di eh in quel termine di dieci giorni quindi eh se non ci sono richieste di oscuramento potrà essere pubblicato evidentemente tutto in modo integrale se c'è una richiesta di oscuramento bisogna vedere se la stazione appaltante accetta o non accetta in ogni caso deve attendere dieci giorni per vedere se c'è o meno ricorso al tar se c'è ricorso al tar evidentemente non può rimarrà tutto rimesso al tar viceversa se non c'è il ricorso nonostante l'iniziale opposizione potrà poi dare i eh documenti novità ulteriore sta nel fatto che laddove eh un operatore economico abbia eh come dire fatto un'istanza di oscuramento che non viene ritenuta fondata dalla stazione appaltante questa ha la possibilità di fare una segnalazione all'ANAC la quale potrà applicare delle sanzioni pecuniari per quell'operatore che in modo reiterato abbia subito dei rigetti di stanze di oscuramento cioè viene sanzionata la condotta dell'operatore economico che in modo pretestuoso eh eh dichiara che ci sono delle parti della propria offerta soggetto soggetto a segreto quando in realtà non era eh non erano ritenute segrete dal come tutelate dal segreto dal dal eh dalla stazione appaltante. Comma sette disciplina infine eh appunto il rito di questo accesso eh appunto che abbiamo detto eh può essere attivato entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Mi sembra che appunto ho terminato i miei argomenti se avete qualche domanda immagino sull'accesso lascio a voi la parola. C'è qualche domanda? Sull'accesso no. Vi ha storditi anche perché non non invidio i colleghi delle stazioni appaltanti che dovranno caricare tutti questi documenti. Eh sì l'altra cosa è abbastanza intuibile c'è evidentemente una eh una eh come dire pubblicazione di tutte le offerte quindi questo in effetti cambia anche il rapporto rispetto rispetto all'accesso agli atti. Cioè potrà esserci effettivamente una conoscenza eh lato lato imprese potrà esserci anche una corsa a rientrare nei primi cinque perché rientrando nei primi cinque posti potrò avere anche questo eh questo diritto di accesso e comunque non è poco insomma Giordano prego no si sposta si sposta grazie a tutti grazie a tutti buongiorno a tutti eh io mi occuperò invece del dell'avvalimento del subappalto del contenzioso amministrativo e poi di due istituti volti appunto a eh una risoluzione bonaria delle controversie per lo più in fase esecutiva che sono l'accordo bonario e il collegio consultivo tecnico. Vado subito al dunque visto che comunque abbiamo poco tempo a disposizione per quanto riguarda l'avvalimento diciamo l'istituto presenta diverse novità rispetto appunto alla configurazione precedente rispetto alla configurazione del cinquanta duemila sedici. Mh noi sappiamo che questo istituto ha una finalità principale che è quella di eh ovviamente favorire la partecipazione delle imprese alle procedure di gara cioè la funzione principale è quella di consentire ad un operatore economico magari non possiede una parte dei requisiti di poter fare affidamento appunto di voler avvelersi in un altro soggetto per poter colmare diciamo quella parte di eh requisito eh di cui è carente e già questa introduzione però ehm diciamo ci fa ehm ci eh ci consente di ehm ecco eh evidenziare quelle che sono le eh diciamo prime novità eh relative a questo istituto che riguardano sia diciamo la tecnica legislativa utilizzata ma soprattutto eh poi il contenuto sostanziale del del dell'avvalimento eh e che riguarda in particolare la sua funzione perché è stato eh diciamo eh estesa la possibilità di ricorrere la la possibilità di ricorrere l'avvalimento è stata estesa non soltanto appunto ad assolvere ad una funzione di ehm ecco eh acquisire un requisito di partecipazione ma di eh migliorare la propria offerta tecnica quindi è stato eh espressamente ammesso anche eh l'avvalimento premiale. Andiamo però con ordine ehm diciamo una prima differenza come dicevo si nota proprio da un punto di vista della tecnica normativa mentre il codice del cinquanta duemilasedici disciplinava l'istituto partendo proprio dalla sua funzione cioè la funzione di eh appunto eh colmare un eh requisito eh adesso eh il eh legislatore ci fornisce subito una definizione che potremmo dire civilistica del eh contratto di avvalimento che prima in realtà mancava appunto che mancava nel nel vecchio codice l'avvalimento del contratto con il quale uno è più impresa si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche risorse umane strumentali per tutta la durata del della parte poi ovviamente ci fornisce anche quelle che sono le caratteristiche che adesso appunto andremo a vedere ovviamente la funzione eh di eh istituto volto a favorire la partecipazione delle imprese alle gare ovviamente non viene meno anzi si dà per presupposta è una eh è una funzione consustanziale a questo a questo istituto tanto che ad esempio il eh coma due prevede che qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione e quindi fa un espresso riferimento comunque a questa eh a questa funzione e mh e e quindi appunto eh l'istituto sia nella vecchia formulazione sia nell'attuale formulazione risponde principalmente appunto a questa razio cioè di consentire in concreto la concorrenza avrendo il mercato ad operatori economici di per sé privi dei requisiti ovviamente la novità dell'avvalimento appunto premiale non va in contrasto appunto con questa razio con questa con questa funzione anzi la forse la implementa la eh la valorizza perché ovviamente anche l'avvalimento premiale può essere visto in un'ottica di favorire la eh partecipazione appunto delle eh imprese alle eh procedure di guerra. Vorrei dire che finora l'avvalimento premiale molti di voi già già lo sapranno era vietato dalla dalla giurisprudenza cioè se un operatore economico si faceva prestare da un altro operatore economico dei eh come dire dei mezzi risorse requisiti che non erano necessari per accedere a quella gara ma per conseguire un punteggio maggiore quel punteggio maggiore che l'operatore economico aveva conseguito per effetto dell'avvalimento non era considerato quindi veniva venivano tolti gli eventuali punti che la stazione appaltante segnala e quindi oggi invece questa novità appunto supera questa preclusione. Aggiungo solo che sempre per collegarmi a questa giurisprudenza le uniche ipotesi in cui l'avvalimento poteva dare punteggio era il caso in cui sempre per la giurisprudenza in cui era effettivamente un avvalimento di requisiti e poi però diciamo il l'impresa ausiliaria si avvaleva del del l'impresa ausiliaria si avvaleva dell'ausiliaria anche ai fini del punteggio. Da questo punto di vista la giurisprudenza era più permissiva però ripeto c'era un avvalimento di fondo necessario per poter colmare i requisiti. Per quanto riguarda le caratteristiche del contratto di avvalimento sono ovviamente non ci sono particolari novità consiste nella messa a disposizione delle dotazioni tecniche e delle risorse umane strumentali per tutta la durata del dell'appalto. Una novità riguarda la circostanza che se il contratto di avvalimento è concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione ad una procedura di lavori di importo pari o superiore a centocinquantamila euro o di un appalto di servizi e forniture esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Questa specificazione può sembrare diciamo scontata con riferimento ai lavori ovviamente prevede una qualificazione SOA meno scontata per servizi e fornituri se non fosse che appunto con il nuovo codice è stato sembra essere introdotto quando verrà ovviamente adottato il eh il decreto ministeriale vale un sistema di qualificazione anche per i servizi e fornituri ma anche qui siamo ancora nel nel campo diciamo della eh incertezza e del dover comunque diciamo l'ipotesi diciamo che appunto rimane solo un'ipotesi eh che eh potrà essere introdotto un sistema di qualificazione con la falsa riga del del sistema SOA anche per eh chi opera nei servizi e forniture questo sembrerebbe emergere da alcuni eh come dire elementi contenuti nel codice però ecco se posso questo sarebbe rivoluzionario nel mondo dei servizi sì 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 assolutamente sì perché come sappiamo eh per servizi e forniture non c'è un sistema predeterminato per cui poi ogni stazione appaltante determina eh a suo piacimento i requisiti di accesso a quella gara viceversa con un sistema come dire centralizzato di di qualificazione eh come verrà fatta chiarezza sia sulle varie categorie di di servizi oggi sappiamo no che ci sono dei contorni molto molto sfumati sia i vari requisiti eh potrebbe essere anche dotazione organi esatto questo però ecco sembrerebbe esserci eh questa novità che poi evidentemente se sarà tale si riverbererà anche sull'avvarimento la forma ovviamente la forma scritta appena di nullità e eh è un contratto normalmente operoso e normalmente oneroso eh ovviamente anche nella precedente disciplina può essere un contratto normalmente operoso però viene specificato a livello legislativo salvo che eh risponda anche a un interesse appunto del 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 dell'impresa asiliare quindi tendenzialmente anzi generalmente è un contratto oneroso ovviamente il mio consiglio è sempre quello di predisporlo come contratto oneroso per evitare eventuali appunto eccezioni però diciamo il codice introduce questa possibilità di poter eh diciamo non prevedere l'onerosità del contratto salvo appunto che risponda anche un interesse di impresa ehm ausiliaria sempre l'articolo cento quattro appunto ci dice che eh l'avvalimento è un contratto che eh che che comunque il il contratto diciamo principale il contratto d'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara alla quale rilasciato il certificato di esecuzione questa diciamo disposizione prevede alcune deroghe eh una presente già nella vecchia formulazione laddove la eh il contratto di avvelimento è stipulato con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto e allora in questo caso il contratto è eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria e un'altra eh eccezione che però a mio avviso diciamo eh introduce una novità abbastanza controversa perché la norma ci dice testualmente che quando il contratto di avvelimento è stipulato con un'impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo cento comma tre allora è eseguito direttamente dall'ausiliaria ora al di là di questa eh diciamo ehm statuzione quindi del fatto che eh il contratto deve essere eseguito direttamente dall'ausiliaria il tema un riferimento appunto a questa disposizione è che la norma sembra e dico molto dubitativamente sembra ammettere la possibilità di avvalersi del requisito dell'iscrizione nel registro della camera di commercio e però a mio avviso insomma su questa norma bisogna andarci molto cauti perché portata alle estreme conseguenze potrebbe proprio così paradossalmente legittimare la partecipazione alla procedura di gara di un soggetto che non svolge quel tipo di attività ad esempio come avvocato potrei avvalermi dell'iscrizione in camera di commercio per un'impresa di costruzioni e partecipare a una gara di costruzioni ovviamente questa è ehm eh un'interpretazione eh estremizzata questo perché perché l'articolo cento comma tre cui fa riferimento eh appunto questa eh questa disposizione eh riguarda appunto l'iscrizione nel registro della della camera di commercio in realtà poi la norma non ti dice che è possibile avvalersi di questi requisiti dice quando però il contratto di avvelimento è stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione e titolo abilitativo ora potrebbe anche essere un refuso perché in realtà le autorizzazioni e i titoli abilitativi sono ehm diciamo esatto cose diverse eh rispetto alla all'iscrizione appunto nel registro della camera di commercio però l'articolo che fa riferimento effettivamente prevede l'iscrizione nel registro della camera di commercio però quindi vedremo poi cosa ci dirà probabilmente la la giurisprudenza o magari appunto come diceva il collega si tratti di disposizioni transitorie nel senso che potrebbe essere insomma previsto un un correttivo come di regola avviene eh e quindi appunto vedremo questo 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 aspetto però scusa non potrebbe essere eh un riferimento alle aziende non italiane? Perché l'articolo cento tre effettivamente ehm poi fa riferimento alle aziende non non italiane però ehm l'iscrizione alla camera di commercio è un operatore economico è è conseguenziale da che la abbia un operatore economico e non ha sede legale in Italia facciamo un esempio uno può essere letto in due modi uno è questo l'altro è che se non hai una ehm abilitazione un'iscrizione in camera di commercio in un settore merceologico codice a teco ad esempio come dire pertinente rispetto all'oggetto dell'appalto allora ti puoi avvalere di un'impresa che ce l'ha eh e quell'impresa deve eseguire direttamente le eh le prestazioni peraltro qui io ricordo una giurisprudenza ma una giurisprudenza era previsto proprio dall'articolo ottantanove c'era un divieto per i requisiti di unità professionali di dare dare l'avvalimento così come per le certificazioni di qualità tendenzialmente poi lì c'era quindi ecco è una norma veramente che se ha quel senso delle imprese estere appunto bene ma il rischio che gli venga dato anche un senso ulteriore lì diventa un'ulteriore liberalizzazione che però mi sembrerebbe un po' fantasioso come interpretazione che un avvocato si candidi a un'opera pubblica magari più meno estrema che però potrebbe essere eh ad esempio sempre tornando all'esempio degli avvocati adesso mi rendo conto che eh diciamo voi non vedete spesso queste gare probabilmente i servizi legali però una società di consulenza ok che non ha abilitazioni professionali ad esempio esercitare la professione eh forense potrebbe partecipare non so una banca un istituto bancario una un'assicurazione a una gara di consulenza in cui è legale in cui richiesta anche l'abilitazione eh forense e e prendere quel requisito dell'abilitazione professionale attraverso un eh un avvalimento quindi una gara per servizi legali partecipa a un soggetto che pur rientrando nel nel macroambito della consulenza alle imprese ad esempio non è però eh un 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 professionista abilitato ehm allora mh per quanto riguarda invece gli adempimenti appunto per l'impresa asiliata e eh abbiamo già una prima indicazione su quella che la una delle novità appunto che riguardano il contratto di avvalimento ovvero l'operatore economico deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto ovviamente di avvalimento in originale o copia autentica ovviamente abbiamo un collega prima già ha parlato dell'eventualità in cui il contratto di avvalimento non sia stato eh diciamo eh accluso all'offerta in questo caso ha messo il costo struttorio purché appunto sia ricavabile la eh la data certa e ovviamente nel contratto di avvalimento deve essere specificato se ci si avvale delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o appunto per migliorare la propria offerta ed è questa appunto l'introduzione della novità relativa all'avvalimento eh premiale un'ulteriore novità che si ricava contrario al comma 12 prima il direttore parlava della possibilità di partecipare appunto alla stessa impresa di partecipare in più ati e anche in questo caso invece c'è la possibilità appunto per l'impresa ausiliaria che quindi eh partecipa alla gara quale appunto eh soggetto che interviene in favore di un altro soggetto per consentirgli di acquisire appunto i requisiti di partecipazione l'impresa ausiliaria può partecipare eh essa stessa appunto alla gara non c'è una norma che espressamente prevede questa possibilità ma si ricava a contrario appunto dal comma 12 che ci dice che nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta non è consentito che partecipano alla medesima gara l'impresa ausiliaria è quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione quindi normalmente quando l'avvalimento è eh diciamo ehm effettuato per ehm diciamo a titolo di conseguimento dei requisiti allora è l'ausiliaria può partecipare eh alla gara non può farlo se invece l'avvalimento è fatto per ehm migliorare appunto il eh proprio punteggio ehm tornando appunto agli adempimenti per l'impresa asiliaria non eh ci sono appunto particolari novità ovviamente eh l'ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti generali dei requisiti ovviamente speciali che mette eh eh a disposizione e ovviamente deve mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto di avvalimento. C'è una nuova disciplina per quanto riguarda invece la sostituzione dell'impresa ausiliaria nella disciplina diciamo previgente eh prevedeva appunto l'obbligo della stazione appaltante di imporre la sostituzione della eh della della dell'asiliaria invece viene in un certo senso ecco questa eh sostituzione procedimentalizzata eh infatti in caso di false dichiarazioni imputabili all'ausiliaria eh viene assegnata appunto all'impresa un termine non superiore ai dieci giorni per indicare un'altra impresa ausiliaria etonia la sostituzione dell'ausiliaria comunque ovviamente non può determinare la modifica sostanziale del del dell'offerta e eh in caso di mancato rispetto del termine eh assegnato l'operatore economico escluso e inoltre ovviamente l'impresa ausiliaria che ha reso la falsa dichiarazione sarà segnalata eh all'ANAC ehm si parla ovviamente di falsi dichiarazioni imputabili all'impresa ausiliare perché ovviamente laddove siano imputabili anche l'ausiliata allora è un altro paio di mani che comportano ovviamente l'esclusione anche del del dell'ausiliata e quindi del concorrente. In caso invece di mancato possesso o di perdita dei requisiti da parte dell'impresa ausiliaria la stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione. Non c'è il termine in questo caso ma verosimilmente potrebbe essere assegnato appunto in termini di dieci giorni lo stesso previsto in caso di false dichiarazioni imputabili alla ehm eh all'ausiliaria. Ne abbiamo già parlato prima quindi andiamo avanti e stante la formulazione della norma ehm insomma mi sembra utile ecco eh porre un un quesito ovvero se eh persiste ancora la differenza tra avvalimento operativo e avvalimento di garanzia quantomeno sotto il profilo sotto l'aspetto contenutistico del contratto di avvalimento. Si tratta diciamo di due ehm definizioni del contratto di avvalimento che eh sono state eh ecco sviluppate, elaborate dalla giurisprudenza. L'avvalimento operativo è appunto quello che riguarda il prestito dei requisiti di capacità tecnica e professionale e richiede appunto che nel contratto di avvalimento l'impresa ausiliaria metta effettivamente a disposizione dell'ausiliata i mezzi strumentali e le risorse che hanno sviluppato il requisito. Mezzi e risorse che devono essere dettagliatamente elencati ovviamente appena di eh nullità nel contratto di avvalimento. L'avvalimento di garanzia invece riguarda il prestito dei requisiti di capacità economico-ferianziaria e serve quindi più che altro eh a per rassicurare la stazione appaltante sulla capacità della parte di far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto quindi non è una finalità diciamo esecutiva ma una finalità di eh garanzia. Sempre secondo la giurisprudenza in questo caso non era non è necessario che siano indicati appunto specificatamente i beni patrimoniali insomma gli indici materiali tutte le risorse messe a disposizione con la conseguenza che se in caso di avvalimento operativo il contratto di eh avvalimento non conteneva appunto i mezzi e le risorse messe a disposizione per eseguire l'appalto era nullo e in caso di avvalimento di garanzia invece poteva appunto non contenere il contratto eh questa specificazione senza che eh da questa circostanza ne derivasse poi la eh conseguente nullità e mh perché mh pongo però questo requisito perché questo requisito eh sulla diciamo sussistenza di questa distinzione quantomeno a livello del di quello che può dovre essere il contenuto del contratto di avvalimento perché ehm appunto nella attuale normativa la definizione eh del contratto è una definizione civilistica che ehm in cui appunto viene espressamente previsto che il contratto di avvalimento è il contratto con cui un una parte mette a disposizione dell'altra appunto eh mezzi eh risorse e ehm e eh strumenti e quindi sembrerebbe sembrerebbe ma anche qui ovviamente bisogna andarci caudi che il contratto di avvalimento debba sempre e comunque contenere la messa a disposizione dei mezzi strumentali e delle risorse quindi anche laddove eh riguardi il prestito dei requisiti di capacità economico e eh finanziaria però ripeto si tratta ancora di considerazioni di 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 massima però mh diciamo da come eh è strutturata la norma potrebbe fornirsi appunto questa ehm questa eh interpretazione ehm non è più previsto il divieto ex legge eh il divieto di avvalimento che era previsto dalla legge per le per le Sios quindi di valore superiore al eh al dieci per cento qui ovviamente vi ho riportato la formulazione appunto della vecchia norma che è appunto eh nell'attuale assetto non è più previsto questo divieto ex legge ma appunto il divieto ex legge è stato sostituito da una mera facoltà quindi discrezionalità della stazione appaltante di limitare eh l'avvalimento il comma undici dell'articolo centoquattro invece infatti ci dice che nel caso di appalto di lavoro di appalti di lavori di appalti di servizi operazioni di posa in opera installazione il quadro di un appalto di fornitura quindi non fornitura secca ma punto posa in opera installazione le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali i vi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica siano direttamente svolti dall'offerente o nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici da un partecipante al ehm al 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 raggruppamento qui abbiamo un 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 quadro diciamo delle 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 caratteristiche essenziali del contratto appunto nella sua attuale formulazione eh poi tanto li mandiamo sì 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 se ci c'è una domanda sull'avvalimento ehm come a tre qualora un'impresa ausiliare mette a disposizione un titolo abilitativo automaticamente l'impresa eh deve inserire anche la richiesta di subappalto altrimenti eh esclusa perché dice che si applica la regola si applica l'articolo del subappalto in caso di messa a disposizione di un titolo abilitativo l'ultimo a livello pratico sì è la cosa più tanto diciamo si può inserire tra virgolette liberamente poi non non è un obbligo la dichiarazione di subappalto quindi eh a livello pratico è consigliabile consigliare non è più un obbligo quindi l'inserimento no è un obbligo se si vuole subappaltare però se io dichiaro di volermi avvalere del subappalto e poi non lo faccio d'accordo non è non è quindi il consiglio dico è di di metterlo ovviamente ah in in questo caso se viene detto qualcosa in merito all'avvalimento di certificazioni di qualità o altre certificazioni hm non ci sono novità diciamo rispetto alla all'assetto precedente no diciamo c'è questo riferimento che poi dovrà essere chiarito eh alle abilitazioni avete visto c'è questo richiamo all'articolo cento mi sembra comma tre che riguarda il eh quello che è il requisito di donità professionale principale cioè l'iscrizione in camera di commercio le certificazioni di qualità secondo la la distinzione che le fa la giurisprudenza rientrano in questa casistica anche se non c'è un riferimento eh diretto che sono requisiti di donità soggettivo che in teoria poi ci sono dell'apertura della giurisprudenza non non potrebbero essere oggetto di avvalimento quindi ecco a parte questo riferimento che andrà chiarito non non si dice nulla sembrerebbe ammettere l'avvalimento di questo tipo sembrerebbe cioè se lo ammette se la se la norma va letta in quel in quel modo per riscrizione in camera di commercio a maggior ragione vale per le certificazioni di qualità però ripeto vale l'avvertenza che ho dato nell'introduzione allora passiamo al subappalto in realtà rispetto a la conformazione diciamo finale che il subappalto ha assunto nella vigenza del decreto legislativo cinquanta duemila sedici le novità ecco non sono tantissime vengono confermate quelle che erano le novità che via via si sono stratificate insomma a partire dall'entrata in vigore del cinquanta duemila sedici le varie novità poi appunto sblocca cantieri semplificazioni e semplificazioni bis viene quindi confermata l'eliminazione delle limitazioni percentuali per il ricorso al subappalto salvo appunto alcune eccezioni che a breve vedremo l'eliminazione del divieto appunto per i soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del contratto di appalto di di venire subappaltatori della giudicatario ovviamente viene confermata l'eliminazione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori e dell'esclusiva responsabilità dell'appaltatore per la prestazione oggetto del contratto di subappalto e poi probabilmente la novità appunto principale l'introduzione del eh diciamo cosiddetto subappalto a cascata qui abbiamo un breve excursus su quelli che erano i limiti andiamo velocemente insomma trenta per cento fino allo sblocco cantieri quaranta per cento fino al eh semplificazioni bis un limite intermedio del cinquanta per cento fino al trentuno ottobre duemilaventuno poi eh sono stati inseriti diciamo introdotti i non limiti tra virgolette che sono stati riconfermati anche in eh in diciamo in tale eh in tale appunto in tale nuovo 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 assetto la progressiva anche qui due parole la progressiva liberalizzazione è stata ovviamente eh è dipesa dalla procedura di infrazione aperta dalla dalla commissione e confermata dalle varie pronunce della Corte di 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 giustizia per quanto riguarda vabbè la definizione di subappalto eh sappiamo che il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore la norma poi si premura di dare appunto di 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 dare un'ulteriore specificazione del 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 contratto appunto di ehm di 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 subappalto ovvero qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività comunque ovunque espletate che richiedono l'impiego di eh mano d'opera. Ehm andiamo al dunque però su quelle che sono appunto le eh limitazioni alla possibilità appunto di di subappaltare eh le prestazioni appunto oggetto del contratto di appalto. Regola generale è che i soggetti affidatari dei contratti seguono in proprio le opere o i lavori i servizi e le forniture compresi nel ehm contratto. È però ovviamente nulla la cessione del contratto così come è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di mano d'opera. Che cosa ricaviamo da questa disposizione? Che ehm non è ammesso il subappalto del della totalità delle delle prestazioni proprio perché nullo l'accordo con cui è affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni non c'è però un limite generale a eh la percentuale appunto di eh alla percentuale appunto di 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 insomma di di prestazioni subappaltabili salvo che anche in questo caso per talune tipologie per la categoria prevalente così come per i contratti ad alta intensità di mano d'opera sono quei contratti dove il valore della mano d'opera è superiore al cinquanta per cento dell'importo appunto contrattuale a base d'asta in questi casi il subappalto è messo sino al cinquanta per cento perché appunto non può essere affidata a terzi ehm la prevalente appunto esecuzione di queste eh di questa appunto prestazioni. Scusa un attimo. Scusa. È un passaggio indietro. Una slide precedente. Quindi è ammesso al novanta nove per cento il subappalto. Come ho detto prima mi hanno sconvolto tutte le convinzioni che avevo. Anche qui sì diciamo eh non c'è un limite generale. Eh ad alta intensità intensità di mano d'opera. Riusciamo a fare un esempio? Allora l'esempio è diciamo norma. Scusa se posso riguarda solo i servizi. Questo va. Il secondo. La norma adesso parla di contratti da quello che vedo. Esatto. Però diciamo altra definizione. Adesso magari ci vediamo perché questa ce la vediamo. Questa norma rimanda alla definizione di alta intensità di mano d'opera. Adesso magari provo a cercare io il riferimento. tradizionalmente si fa riferimento solo ai servizi. Servizi. Tradizionalmente si fa riferimento solo ai servizi. Però ecco anche qui. Infatti è molto interrogativo. Il servizio mensa. Il pacchinaggio. La mani della mani della prevenzione. Dove. Il portierato. Il percentuale della mano d'opera è superiore al cento. Ok grazie. Vabbè questo è un semplice schemino diciamo sì per vedere poi la percentuale subappaltabile. Comunque come vedete qui eh ho ipotizzato un aggiuno prevalente che Cuba è il sessanta per cento e quindi è subappaltabile eh fino al cinquanta per cento e tutte le altre diciamo scorporabili sono subappaltabili nel cento per cento con la insomma su un milione e qua arriviamo al settanta per cento calcolando queste percentuali. Vabbè così una un esempio eh un diciamo un piccolo esempio e eh ehm abbiamo detto che diciamo come regola generale salvo queste limitazioni che abbiamo appena viste non c'è un eh una percentuale appunto eh massima subappaltabile come regola generale le stazioni appaltanti hanno però la facoltà di limitare il subappalto quindi non c'è una regola generale diciamo che impone eh diciamo un un tetto al subappalto però le stazioni appaltanti eh possono appunto stabilire possono indicare appunto nei documenti eh di cara le prestazioni lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario quindi senza possibilità di essere subappaltate in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare tenuto conto della natura o delle complessità della prestazione delle lavorazioni da effettuare il controllo dell'attività di cantiere e dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazione climatica quindi facoltà della stazione appaltante di prevedere appunto delle eh prestazioni da eseguire direttamente dal diciamo dal dalla dall'appaltatore e quindi di vieto conseguente di vieto di eh subappaltare parlavamo prima del subappalto a cascata quindi della possibilità di subappaltare le prestazioni affidate in subappalto anche in questo caso non c'è una norma specifica diciamo che era legittima espressione ma si ricava questa possibilità a contrario appunto dal coma di 17 dell'articolo eh centodiciannove eh il quale appunto ci dice che le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni lavorazioni oggetto del contratto di appalto che pur subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto contrario appunto se ne ricava che in mancanza di indicazioni in tal senso è ammesso il subappalto a cascata cioè si può subappaltare la prestazione eh subappaltata diciamo sì qui non credo che la norma eh lo dica quindi si pone uno uno dei vari temi e se c'è un limite a quante cascate si possono eh si possono eh si possono prevedere quindi ecco diciamo da come è scritta la norma appunto non sembrerebbe prevedere limitazioni poi sarà evidentemente premura dell'appaltatore magari nel contratto stabilire un limite un limite aggiungo io il limite non è previsto per legge ma nel contratto potrebbe essere l'appaltatore che che lo inserisce quindi come stop a monte la possibilità di una cascata o di più cascate tutela esatto 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 proprio tutela perché la responsabilità ricade sempre sul appaltatore come associazione eh in effetti questo recepimento di direttiva comunitaria è relativo a liberalizzazione e subappalto l'abbiamo vista in termini un po' critici soprattutto il fatto che non ci sia un limite non ci sia un limite proprio perché eh rappresentando aziende che generalmente fanno gli appaltatori questo limite in basso crea delle responsabilità importanti quindi il suggerimento di mettere comunque nel contratto di subappalto una limitazione potrebbe essere una clausola da valutare con attenzione certo sì sì può sia vietare eh può sia stabilire prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal contraente diciamo principale sia appunto stabilire prestazioni che non posso pur subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto quindi sì sì eh assolutamente comunque un proseguo col subappalto anche qui non mi dilungo troppo ci sono ovviamente sappiamo delle attività che non sono subappalto ora la la più rilevante sono quelle indicate appunto dal comma 3 dell'articolo 119 sono le stesse che erano previste appunto dal centocinque del cinquanta duemila sedici ehm e diciamo c'è una piccola novità quella che riguarda appunto i contratti continuativi di cooperazione è rimasta ovviamente eh questa ehm diciamo la qualificazione appunto di questa tipologia contrattuale al di fuori del perimetro di subappalto però la norma specifica che i contratti continuativi di eh prestazione non sono subappalto quando si tratta di prestazioni secondarie accessorie o eh sussidiarie questo perché eh diciamo forse si è mh soprattutto nei servizi probabilmente si è un po' abusato di questo strumento in in cui si riusciva diciamo a eludere un po' la normativa sul 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 subappalto quindi c'è stata tutta una casistica eh della della giurisprudenza appunto che ha eh detto appunto che ehm occorreva limitare fortemente la possibilità di ricorrere a questo istituto appunto a questi contratti continuativi di cooperazione e e poi tale diciamo impostazione giurisprudenziale è stata recepita dal legislatore che ha espressamente specificato che solo le prestazioni secondarie accessorie o sussidiarie possono eh essere oggetto di contratti continuativi di cooperazione e quindi non eh rappresentano il subappalto poi è paradossalmente sembra quasi contraddittorio che laddove sia andata a liberalizzare il subappalto si è inserita questa diciamo specificazione per eh limitare insomma questa 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 prassi ecco ehm diciamo invalsa quindi in sostanza è subappalto se eh la se il contratto anche se definito come continuativo anche se sottoscritto in data anteriore riguarda la prestazione principale fondamentalmente e qua insomma anche qui non 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 mi dilungo eh sulle caratteristiche dei contratti continuativi quindi andiamo un po' ehm avanti eh ovviamente le condizioni per affidare il subappalto sono rimaste le stesse non ci sono particolari novità ovviamente la qualificazione per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire non devono sussistere ovviamente le cause di eh esclusione e ricollegandoci a quello che dicevamo prima all'atto di offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o le parti di servizi e le forniture che si intende subappaltare quindi l'obbligo di eh indicare la volontà di eh diciamo ricorrere al subappalto comunque ovviamente eh rimane io volevo solo aggiungere mi sembra che tu hai terminato sul subappalto e c'è una norma che tu hai richiamato eh all'inizio quando hai parlato del subappalto cioè questo codice conferma il venir meno del divieto di subappaltare a un concorrente della gara adesso non so se se questa l'avevate ricepita era una norma che era già stata introdotta eh dalla legge sulla concorrenza mi sembra per il duemilaventidue e che viene positivizzata eh in appunto nel codice quindi quel divieto che c'era di subappaltare all'impresa che aveva partecipato alla gara che è stato poi contestato dalla Commissione Europea è stato appunto anch'esso eh anch'esso superato quindi è un ulteriore elemento di liberalizzazione quindi il subappaltatore può essere anche un' impresa che che aveva partecipato a quella gara. Beh è comunque responsabile quindi si poi controllo finale lo fa la stazione appaltante però se il subappaltatore presenta un soggetto non qualificato non viene autorizzato probabilmente il subappalto del subappalto. mi devo avvisare che il subappalto a sua volta è lui tenuto a controllare requisiti o sono io? Allora secondo me questo può essere oggetto diciamo di contrattazione tra subappalto e eh subappaltatore e se io fossi un'impresa che dà in subappalto o non prevedo insomma o come dicevamo prima possiamo limitare il subappalto e il subappalto o comunque quantomeno ehm poniamo un un obbligo di di controllo del subappaltatore di verificare appunto i requisiti del proprio subappaltatore fermo restando che anche dei principi generali civilistici forse quest'obbligo si può ritenere già sussistente a buona fede e e così via insomma. No però scusa il tema è questo io sono mi aggiudico una gara voglio affidare il subappalto alcune lavorazioni faccio la comunicazione all'interappaltante e mi dico guarda io voglio e alleggo il contratto e quant'altro. A sua volta il subappaltatore che affida una parte del contratto tenuto in subappalto la catena della 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 procedura amministrativa quale deve essere? Il subappaltatore comunica all'appaltatore la volontà di voler affidare il subappalto una una porzione del contratto che ha acquisito e a sua volta l'appaltatore lo comunica la stazione appaltante perché qui c'è la catena amministrativa così cioè il subappalto va autorizzato quindi il referente principale resta comunque l'appaltatore no però il tema è va autorizzato anche il subappalto a cascata ovviamente sì cioè perché altrimenti sarebbe un'illusione maggior ragione cioè tutti i subappalti vanno autorizzati quindi lo stesso vale per la subappalto di secondo livello terzo livello quarto livello è prevista l'utilizzazione del subappalto però è per me è scontato che il subappalto il subappalto deve essere sì peraltro sì esatto va palesato il nome del soggetto eh ma non solo palesato va 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 autorizzato anche perché sì esatto c'è anche il tema del pagamento di resta sì 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 grazie mi scusi eh non è una novità del di questo codice perché era già previsto ma eh l'obbligo ehm per il subappaltatore di applicare lo stesso contratto collettivo dell'appaltatore qualora le lavorazioni eh siano relative alla categoria prevalente oppure siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale allora se ci troviamo con un appaltatore una categoria prevalente oggi uno in edilizia all'interno della oggi uno ci sono lavorazioni ancorché non scorporabili ma riconducibile ai soli fini del del subappalto a degli impianti mi trovo un subappaltatore che applica un contratto collettivo nazionale differente scatta un obbligo per il subappaltatore di applicare per i lavoratori che operano nel mio subappalto delle eh maggiori diciamo dei maggiori oneri che sono quelli eh previsti dal contratto per l'edilizia ma eh diciamo con le dovute cautelere del caso ehm potremmo sostenere che quest'obbligo non non sostisse se però limitiamo appunto il contratto di subappalto a quelle prestazioni cioè eh insomma eh relative quindi non alla oggi uno nella sua interessa ma quelle parti della oggi uno che invece eh riguardano appunto gli eh gli gli impianti. Posso fare un ragionamento che non è relativo all'applicazione della norma sugli appalti ma applicazione dei contratti contratti di lavoro. Il contratto di lavoro generalmente si applica facendo riferimento alle lavorazioni principali cioè tutti i contratti nazionali hanno la l'ambito di applicazione. Eh buon senso porterebbe a dire se io applicando il contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici che inquadra anche tutta la parte degli impiantisti. Il lavoro affidato è relativo agli impianti dal punto di vista dell'inquadramento contrattuale è in dubbio che quello va nel contratto dei metalmeccanici. Questa norma è pensata in casi inversi perché come accennava lei il contratto degli edili è un contratto più oneroso che il contratto dei metalmeccanici. Sempre più spesso si è visto che per lavorazioni tipicamente edili quindi nella declaratoria dell'articolo 2 del contratto dove vengono individuate le lavorazioni che sono inquadrate in quel contratto vengono eseguite da aziende che applicano altri contratti. Cioè il caso è il caso opposto. Perché il legislatore, una cosa che abbiamo seguito, perché il legislatore ha inserito l'applicazione dei contratti? Perché spesso e volentieri c'era una forma di elusione contrattuale e quindi una forma di concorrenza sleare tra i con tra le aziende proprio perché alcune aziende pur eseguendo lavori edili quindi non classificabili nella declaratoria del contratto metalmeccanici applicavano altri contratti. Quindi io la vedrei in positivo. Cioè nell'ipotesi in cui non voglio rubare il loro mestiere perché non mi permetterei mai però faccio un ragionamento di applicazione delle norme sul diritto del lavoro. Al momento in cui l'azienda esegue lavorazioni che sono riconducibili alla declaratoria a un determinato contratto io sarei tranquillo a dire il contratto applicato è quello corretto. Il momento in cui le lavorazioni non sono riconducibili alla declaratoria di quel specifico contratto a quel punto bisogna fare riferimento al contratto nazionale di lavoro relativo alle lavorazioni eseguite. Io io farei questo ragionamento proprio non applicando questa norma ma applicando la norma del diritto del lavoro. Va bene. Io proseguo un po' credo sollecitamente perché mi sa che già stiamo sporando quindi mancano ancora tre argomenti però cercherò di riassumerli. Forse quelli più interessanti sono finiti. Non so quanto il contenzioso amministrativo possa interessare. Comunque diciamo andiamo un po' eh andiamo un po' al al dunque tanto dello stand sì ecco è stata quale novità eh più rilevante eh è stata introdotta appunto l'azione di ehm eh di rivalsa cioè la possibilità appunto per la stazione per la stazione appunto appaltante di rivalersi eh nei confronti appunto della giudicatario illegittimo che abbia eh diciamo concorso o meglio che sia a quale sia imputabile appunto l'illegittimità della eh aggiudicazione. È ehm previsto direttamente dall'articolo duecentonove ma si ricollega appunto all'articolo se non erro cinque commi tre quattro quello relativo appunto al principio della fiducia. Quindi quando ci sia una violazione della fiducia della stazione appaltante da parte dell'operatore economico dal quale è imputabile l'illegittimità della della aggiudicazione per una falsa dichiarazione ad esempio esempio tipico la stazione appaltante può rivalersi eh dell'eventuale appunto risarcimento del danno eh che è tenuto appunto a pagare al 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 diciamo al ad esempio al secondo graduato che ha fatto ricorso per ottenere la 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 giudicazione e la giurisdizione diciamo di eh questa domanda è appunto del giudice eh del giudice amministrativo. Eh un'altra novità sostanzialmente può capitare che una giudicazione viene dichiarata illegittima se non è possibile il subentro quindi ristoro scusate in forma specifica per per il ricorrente allora scatta il risarcimento del danno cioè io ho vinto un ricorso non posso eseguire la commessa perché non è possibile il subentro per n motivi perché i lavori sono in uno stato eh avanzato posso chiedere sono autorizzato a chiedere lo posso fare nell'ambito del processo amministrativo il risarcimento per equivalente ossia i danni alla stazione appaltante. La stazione appaltante oggi per effetto di questa norma ha il potere di rivalersi cioè della stazione appaltante che subisce un'azione risarcitoria quindi è costretta a risarcire il danno per l' giudicatario pretermesso che non ha ottenuto il subentro eh ha la possibilità dicevo di rivalersi sull'aggiudicatario illegittimo cioè l'appaltatore che sta eseguendo illegittimamente i lavori laddove l'illegittimità della giudicazione derivi da un fatto eh illecito quindi una dichiarazione non corretta non non fedele del eh di questo eh di questo soggetto quindi ecco questa è una cosa che soprattutto lato stazione appaltante è importante importante sapere. Altra novità forse interessante lato imprese eh quantomeno lato impresa che vuole ricorrere contro una giudicazione che ritiene essere illegittima è ehm eh diciamo la eliminazione del del pagamento del contributo unificato in relazione a dei motivi aggiunti. Attualmente teoricamente anche se insomma c'è sempre dibattito i motivi aggiunti prevedono il pagamento di un contributo unificato che negli appalti sappiamo essere molto oneroso due quattro o semila euro a seconda dell'in primo grado a seconda del del valore eh della 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 procedura eh molto spesso è necessario fare i motivi aggiunti eh perché appunto alcuni vizi sono eh percepibili immediatamente e quindi devono essere eh infatti valere appunto nei famosi trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione se invece appunto l'offerta tecnica viene stessa successivamente ma anche nella nella nuova impostazione probabilmente ci saranno motivi aggiunti proprio in virtù del meccanismo di cui ha parlato prima il collega dei dieci giorni il ricorso sull'accesso agli atti eccetera quindi alcuni vizi potrebbero emergere in un momento successivo e quindi potrebbe esserci la necessità di fare motivi aggiunti in questo caso fare motivi aggiunti non scontano il pagamento del contributo unificato che insomma comunque eh ha diciamo un un ehm certo un certo un certo valore e ricollegandomi velocemente a quello che dicevamo in precedenza perché l'azione di rivalza è importante perché comunque la dichiarazione di inefficacia del contratto che è ovviamente eh un presupposto indefettibile del 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 subentro è un'ipotesi comunque mi sento di dire molto limitata non viene spesso dichiarata in efficacia il contratto e poi eh un conseguente appunto subentro da parte del del della giudicatario perché è del insomma del del ricorrente eh perché è rimesso appunto a diciamo una valutazione discrezionale del giudice che che decide appunto in funzione delle deduzioni delle parti della gravità della condotta della stazione appaltante dell'ente concedente e soprattutto della situazione eh della situazione di fatto soprattutto nei lavori è una volta che sono iniziate le lavorazioni è molto difficile che possa esserci un avvicendamento tra eh imprese per una serie ovviamente di eh di questioni per cui quella ad esempio la diversità probabilmente del 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 progetto della dell'offerta tecnica e eh e e così via e questo ecco perché è importante poi la la possibilità di azione di di azione di rivalsa la stazione appaltante perché potrebbe essere appunto condannata a risarcire il danno alla giudicatario pretermesso e qui insomma temi che abbiamo già anticipato sulla tutela risarcitoria in forma specifica prego il contenzioso amministrativo se i lavori vengono affidati alle imprese locali e difficilmente lo devono attivare bene e e altrimenti diciamo ehm insomma terminiamo col contenzioso amministrativo non so se ci sono domande sono vado avanti con con gli ultimi due istituti eh che sono l'accordo accordo buonario e collegio consultivo tecnico accordo buonario è un mezzo di risoluzione alternativo estera giudiziale delle controversie in sorte che riguarda però soltanto appunto l'iscrizione delle riserve quindi fase siamo nella fase esecutiva del del contratto non può essere utilizzato l'accordo buonario per altri fini quindi ad esempio l'impugnazione della risoluzione in danno dell'appalto o questioni riguardanti alla gara quindi ha una diciamo portata circoscritta alle riserve e e può essere appunto attivato anche in questo caso in presenza di limiti specifici cioè l'importo delle riserve iscritte deve essere minimo del cinque per cento rispetto all'importo contrattuale e per un massimo del quindici ehm del quindici per cento eh deve poi appunto l'accordo buonario riguardare tutte le riserve iscritte fino all'avvio del procedimento se ci sono riserve successive l'accordo buonario è reiterabile ovviamente per le ulteriori riserve iscritte purché le ulteriori nuove riserve iscritte raggiungano comunque il limite minimo del cinque per cento e sempre però nel limite massimo complessivo quindi considerate anche le riserve oggetto del precedente accordo buonario del quindici eh del quindici per cento eh a natura diciamo il verbale di accordo buonario a natura transattiva e l'unica novità rilevante mio dire rispetto appunto alla vecchia formulazione è l'espulsione eh del termine decadenziare di sessanta giorni per l'introduzione del contenzioso giudiziale in caso di rifiuto della proposta di accordo buonario quindi viene tolto questo termine molto stringente se veniva rifiutata la proposta di accordo buonario l'impresa aveva sessanta giorni di tempo per notificare l'atto di citazione e quindi incardinare eh il giudizio in sede civile per il riconoscimento delle delle riserve questo termine non c'è più quindi eh normale eh diciamo tempistiche per la eh prestazione prestazione altra mh altra novità in realtà l'estensione anche ai servizi alle forniture laddove compatibili la norma ci dice eh soltanto questo. Chiudiamo con il collegio consultivo tecnico anche in questo caso si tratta diciamo di una eh istituto deflattivo del diciamo del 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 contenzioso e riguarda principalmente la fase esecutiva anche se eh diciamo il nuovo codice ha introdotto appunto un collegio consultivo tecnico per delle questioni che possono insorgere in fase di gara mentre collegio consultivo tecnico esecutivo può essere facoltativo obbligatorio collegio consultivo tecnico per le questioni antecedenti la eh aggiudicazione è ehm a facoltativo ehm anche qui andrei un po' più speditamente su quelle che sono le caratteristiche può essere appunto costituito a distanza di ciascuna parte serve come abbiamo detto a prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere abbiamo detto nell'ambito della esecuzione dei contratti ed è facoltativo può essere utilizzato questa non unità anche per i servizi e poi le forniture quindi non più soltanto per i lavori è invece obbligatorio per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche superiori alle soglie di rilevanza europea o per forniture e servizi superiori al milione di eh di euro cosa fa il collegio consultivo tecnico esprime pareri o in assenza di un'espressa volontà contraria delle parti adotta determinazioni che hanno natura di lodo contrattuale quindi sono ingarato queste determinazioni di costituire diritti ed obblighi eh in capo appunto ehm alle parti il parere è obbligatorio il parere del collegio consultivo tecnico è obbligatorio in caso di sospensione volontaria o coattiva dell'esecuzione dei contratti eh in cui ovviamente la costituzione del cct è però obbligatoria e se però i lavori non possono procedere con il soggetto disegnato prima di eh esperire diciamo la risoluzione la stazione appaltante è obbligata ad acquisire il eh diciamo il 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 parere e mh abbiamo detto che le determinazioni hanno natura di lodo contrattuale quindi suscettibili di costituire diritti ed obblighi tra ehm le parti se l'acquisizione del parere non è eh obbligatoria e se le parti non abbiano diversamente disposto quindi all'atto della costituzione del collegio consultivo tecnico le parti possono escludere diciamo il valore di determinazione il valore di lodo contrattuale diciamo delle determinazioni delle eh del 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 collegio consultivo tecnico ehm l'inosservanza appunto del delle pronunce del collegio consultivo tecnico è valutata sia pareri che determinazioni è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno eh erariale e quindi diciamo ha una certa rilevanza l'inosservanza di pareri e determinazioni. Diciamo questo che il cct serve proprio per eh esimere appunto del funzionario appunto da responsabilità quindi immagino lo facciate tutti quanti eh è uno strumento a tutela dei dei loop prevalentemente nel senso se ho opere che devo portare a compimento da cui può sorgere un contenzioso senza considerare che se l'importo sopra la soglia comunitaria è obbligatorio il cct rappresenta la mia garanzia appunto eh osservare poi osservando poi i pareti che esprime il cct ho la garanzia che non avrò nessun tipo di responsabilità eh di mi chiedevo se è possibile valutare di eh grazie al riconoscimento di questa facoltà per le procedure che abbiano avuto un'attivazione ante trentasei e quindi ante efficace al trentasei ma diciamo che in realtà il collegio consultivo tecnico è stato introdotto adesso dalla decretazione d'urgenza quindi c'è c'è già come istituto da dal semplificazione. Mi riferisco a procedure addirittura ante centosessantatré. Me sembra di ricordare che io credo che la facoltà è è totale che se ancora ci sono contratti in corso di questo parliamo eh precedenti mi pare che ci fosse una tempistica mi pare di ricordare per le procedure già avviate però magari questo lo approfondiamo adesso eh io credo che si possa eh attivare sinceramente eh magari è una facoltà non è un obbligo però se c'è l'esigenza sicuramente è uno strumento che aiuta che aiuta molto per dipanare tutte quelle questioni diciamo che altrimenti portano a un a un contenzioso inevitabile. Grazie. Di contro per chiudere l'osservanza. Ecco magari su questo facciamo un approfondimento. Sì su su appalti molto risalenti abbondantemente in corso diciamo rispetto all'entrata in vigore dell'istituto. Duemilasedice. Ok addirittura si stava sotto la centosessantatré. Ok senza altro. Di contro per chiudere l'osservanza invece delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità per donna erariale salva l'ipotesi ovviamente di eh condotta eh dolosa. Chiudiamo con appunto la costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico per questioni appunto eh diciamo antecedenti la fase di esecuzione del del contratto inclusa appunto la determinazione delle caratteristiche delle opere e altre clausole e condizioni del bando o del dell'invito nonché anche appunto la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione o dei criteri di selezione e di aggiudicazione. Mi sembra però questo un istituto diciamo sicuramente residuale eh forse meno impattante rispetto ovviamente al CCT in fase eh esecutiva. Ma diciamo che diciamo secondo me su gare di un certo livello e complessità laddove ci siano come dire questioni che eh magari attengono anche alla valutazione dell'offerta, la valutazione dell'anomalia, il possesso dei requisiti, io ce lo vedrei. È chiaro, parliamo dunque di gare di una certa complessità. E anche perché poi il collegio consultivo tecnico, lo dico perché io ne faccio parte su alcune opere, è eh un istituto che appunto eh non necessariamente deve essere poi consultato. Cioè io tanto lo nomino, cioè io io stazione appaltante nomino un membro, l'appaltatore il suo membro e insieme decidono eh il presidente può essere a tre o a cinque. È un organo che sta lì a supporto del eh della stazione appaltante per cui se ha bisogno fa il parere, fa la richiesta di parere congiuntamente o disgiuntamente rispetto eh all'appaltatore. Quindi di per sé non implica un costo anche perché mi sembra di ricordare che scatta un compenso per i membri del collegio consultivo tecnico se si riuniscono per almeno quattro eh in quattro sedute per cui potrebbe sotto quel livello di sedute potrebbe anche essere privo di costi ecco. Beh chiudiamo con la costituzione insomma qualche norma procedimentale come diceva è quella che ha tre o cinque componenti possono essere scelti di comune accordo dalle parti oppure possono concordare su uno o su due componenti e il terzo con funzioni di precedenza è scelto invece dai componenti di nomina di di parte e il procedimento appunto per l'espressione di parere o di determinazioni può essere invece attivato da ciascuna delle parti o da entrambe con congiuntamente e poi vabbè le determinazioni sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti tendenzialmente entro quindici giorni dalla data di comunicazione del quesito se formulato eh congiuntamente e la motivazione può essere succinta e può essere poi poi integrata appunto nei successivi eh quindici giorni eh insomma in caso poi di esigenze istruttorie particolari è prevista appunto un termine maggiore di venti giorni dalla comunicazione dei dei quesiti e e niente finito grazie ci sono domande allora preveduto devo fare i complimenti a voi che siete ancora qua eh eh ai colleghi che sono collegati eh in video grazie avvocato Branche e avvocato Giordano grazie a voi e noi ci rivediamo il quindici giugno per l'ultimo incontro bene grazie 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 arrivederci ah sì grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti